sentivo rumori strani sotto che non sapevo neanche da dove esco, in Ciramonte iniziamo, unità 8 di 4, esperimento G-CAN si prima leggeva la chat in inglese e si sentiva l ecco ora tutto a posto no era in tedesco, non so perché la leggeva in tedesco, il programma è impazzito c'era una tedesca che leggeva in inglese, c'era un casino esperimento o test, dipende come mi piace di più Mizzu, Mizzu è acqua, come lo sapete tutti Mizzu è nì ucumono to comunque ieri ho visto che, come si chiama, Seba fa fatica a leggere c'è nel senso, legge G come se fosse G eccetera eccetera quindi stavo pensando magari possiamo fare un quando facciamo gli esercizi lo possiamo fare a voce in modo tale che, ma che cacchio è, perché non mi esce? Shizu mu, Shizu mu, o Shizu mu, mo no ok ce l'ho fatto Shizu mu no mi wakeru in modo tale che capiamo se sapete leggere o meno tanto faccio entrare solo temi esatto, facciamo un gruppo su Discord e parlate lì più grande perché ho visto che lui, c'è legge sbagliato cioè se legge sbagliato è un problema non quando c'è la spiegazione, quando facciamo gli esercizi magari se quando dovete fare uno, due, tre, quattro dice uno alla volta, dice quello che è per me ok poi sentiamo anche gli altri magari c'è qualcuno che non lo vuole fare che altro perché ho visto che Seba sbaglia a pronunciare le robe quindi o lo picchio no perché se sbaglia all'inizio continua a sbagliare per sempre cioè te lo porti avanti allora Shizu mu, allora Mizu ni, o, 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 ku questo è o, ku no, uku uku monoto, Shizu mu, mo noo, mi wakeru allora riesci a capire o riesci a distinguere quale sono le cose che vanno a fondo e quelle che galleggiano sull'acqua che frasone e Taiseki dovrebbe essere volume in base al volume Taiseki Taiseki no warini considerando il volume Karui monoto le cose leggere Karui monoto se si vanno a fondo vuol dire che non galleggiano esatto se vanno a fondo significa che sprofondano uku uku ma una volta c'era un detto che se le cose galleggiano sono buone se non galleggiano fanno schifo una roba del genere però non mi ricordo su che verdura era allora penso penso che galleggiano in base alla leggerezza cioè la leggerezza comparata al volume le uova esatto andan andan valutare andan wa muzukashi è difficile dare una risposta o valutare muzukashi muzukashi na è difficile capire sarebbe qua in questo caso è difficile capire e questo è il nostro e è con l'h appunto tamaneghi che è cipolla come on baby come on baby tamaneghi tabererum della canzone non riesco neanche a scrivere io ho preso la malattia di di vedi qua tipo tamaneghi occhio che mi è uscito così c'è anche il kanji o lo scrivono così o un po' meno per quale motivo comunque questo che è lo stesso kanji di palla oa sarebbe palla di neghi ukunda guarda la cipolla ma neghi è cipolla o aglio? mi sa che è cipolla guarda la cipolla sta galleggiando ukunda ukunda ok ukunu l'ho mai visto shizumu lo conosco shizumu perché quando fanno gli omicidi nell'acqua li affogano nell'acqua se c'è shizumu allora gicchie abbiamo come parole abbiamo uku uku comunque vabbè andawa muskashina e tamaneghi wa ukunda e capire è difficile e guarda la cipolla sta galleggiando che emozione uku poi abbiamo shizumu miwakeru no miwakeru questo qua non lo sapevo non lo sapevo non si dice pensavo fosse una parola nuova invece no taiseki che dovrebbe essere volume penso karui è leggero uku è lo stesso ripetiamo se no ci sono due parole in croce e andan è decisione o valutare dipende da come e poi tamaneghi no è ancora la stessa niente praticamente la stessa parola ripetuta tre volte il primo kanji del giorno è uku che è galleggiare uku uku pronuncia u e si pronuncia fu uku ga uku galleggiare in generale se vuole il simpatico ga galleggiare poi abbiamo ga ukabu che è sempre galleggiare ukabu ukabu galleggiare e poi abbiamo il soggetto transitivo intransitivo quale è uno e quale è l'altro non lo scopriremo mai ukabero più qua quello col soggetto comunque ukabero ukabero perché dire galleggiare in un modo quando lo puoi dire in tre modi poi shizu mu è invece sprofondare shizu mu vediamo se è giusto dovrebbe essere giusto shizu o shin shizu o shin per gli amici allora un secondo vedere shizu mu giusto per sport sommergere affondare andare a fondo a fondo a fondo a fondo sprofondare sprofondare sembri più rincoglionito non che sembro sono rincoglionito togliete il sembro oh shizu meru prima era partita la live in tedesco shizu meru perché non mi esce shizu non sbaglio niente ah ok vuondi non rispondo molto che ti sto tenendo di sottofondo mentre lavoro vai tranquillo e grazie per il sottofondo no ti ho salutato perché io vedo le persone quando entrano però per correttezza ti ho salutato e grazie shizu meru se sbaglio mi picchi picchiami allora me lo picchi andare a fondo sprofondare e questo qua è la stessa cosa però uno è transitivo l'altro è transitivo questo è quello che ho soggetto questo è sprofondo vado a fondo o sprofondo vado a fondo o sprofondo perché comunque è sempre transitivo e intransitivo cin non ci fa l'esempio con cin perché è stronzo comunque si pronuncia anche cin allora prima facciamo questi qua uofu uku io uso sempre uku quando faccio buongiorno pronto uka bu sei riuscito a studiare qualcosa che domani facciamo la lezione domani sì domani martedì no domani è già mercoledì quindi sì domani facciamo buongi a tutti uka beru poi abbiamo shizu e chin sprofondare shizu mu vuole il ga e invece shizu meru vuole uo uno transitivo e uno transitivo posso testimoniare che Alex esiste ed anche Tora è vero lui è venuto da casa mia ieri lui c'era e Tora gli voleva mangiare la giacca lui mi diceva ma sì sì fagliela mangiare non hai capito che te la mangia veramente e ti ci fa dei bei buchi allora poi stanotte Tora non mi ha cagato ci sono rimasto male prima invece era qua gli hai detto pirletto gli hai detto pirletto no sedimi però no pirlone però in compenso quando ho aperto il portone c'era una signora col passeggino ho detto figa ma sia una signora col passeggino invece dietro c'era lui per un attimo mi sono spaventato ho detto magari era una di quelle donne che mi porta il bambino a dirmi guarda che questo è il tuo figlio te lo ricordi per un attimo ho avuto paura guarda che c'è il microfono a sei chilometri di distanza dove cacchio me lo sono messo ho una domanda ma nella primississima lezione ho una domanda ma nelle primissime lezione di essù fa parte non ci sono no è l'unica cosa perché allora questa allora da di du de do se allora se segui la lezione vedi sotto io ho scritto solo dei si cioè tipo adesso ti faccio vedere ho scritto solo tipo sa si su se so ok e in teoria tu devi imparare anche za gi zu ze zo però non hai bisogno di impararli perché za di zu ze zo sono lo stesso simbolo hanno solo questi due segnetti di lato che si chiamano nigori i nigori sporcano la pronuncia praticamente se sa diventa za e quindi se tu sai scrivere ta ok sporco è da ci vabbè ci diventa g ci diventa g adesso com'è che si scrive g no non è così aspetta com'è che si scrive non me lo scrive dovrebbe essere così g ok zu diventa zu de do aspetta che smotto e li scrivo anche sopra su praticamente ti ho lasciato la lista che vi ho fatto che vi ho fatto nell'esercizio era imparare imparate solo quelli base quindi qua e sa eh sì magari in italiano scrivo tu impari sa e sai già scrivere za tu impari ta perfetto e sai già scrivere da ok quelli che non vedete perché non sono cioè non importa che tu impari questi qua perché una volta che sai questi qua sopra sai già anche quelli sotto quindi ti ho tolto una parte dell'alfabeto per fartelo cioè per imparare più in fretta comunque quando trovi questi due segnetti sporca il suono l'unico che cambia è H O che fa aiuto A T FU non fa FU fa fu te o ok li scrivo diventano BABY BUBE BO BABY BUBE BO BABY A BABY 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 BAB ma l'unica cosa stai attento che il HU non è HU ma è FU che diventa V che diventa PU. Però se tu sai fare questo, in automatico sai già fare anche questi. Quindi io ti ho lasciato solo lo scheletro dell'alfabeto perché una volta che tu impari quelli base sai già anche gli altri. Così come li ho memorizzati io. Vado? Chiaro? Vuoi che te lo metto nella chat, che lo copi, te lo chatto? Non so se si può fare, si può fare, si può fare. Eccola qua. No, copia, copia, te l'ho messo nella chat, fai un bel copia. Vuoi che ce l'hai scritto identico sotto nel file che ci ha dato dell'iragene? Almeno penso che c'è scritto. Aspetta, iragana, d'onde sta l'iragene? Questo qua è sbagliato hard disk. Così me lo scrivo ASAP. Sì, sì, tranquillo. Aspetta, volevo farti vedere se c'era. Non me lo apre. Vedi che, no, te l'avevo scritto, anzi qua hai scritto meglio. Qua vedi che te l'avevo scritto. Qua praticamente tu impari questi qua sopra. Devi imparare solo questi qua. Una volta che sei quelli lì, questi sotto. Vedi che l'avevo scritto anche qua sotto, c'è scritto. Vedi, te li ho messi sotto qua. Ah sì, mancatada. Ok, lo scriviamo. Mancava quello, te lo scrivo. Mi hai fatto la domanda perché manca e c'hai ragione. L'abbiamo saltato. Non te lo metto qua a caso. Tanto basta che faccio così. Copia. No, 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 che copia. Questo l'avevo saltato. Bravo. Che te ne sai qua. Nessuno me l'ha mai detto. Ta. Ce li ho fatti nei quadretti, sì. Ta. G. Du. Poi du. De. No. Così ce li hai tutti. Poi te lo rigiro questa qua. Ta. Da. Che poi non è di. Come faccio a scriverlo? Perché io li ho stampati doppi per allenarmi a scriverli in grande. Ora mi sto allenando a scriverli in piccolo. Ciao. Comunque questo file qua dopo se vuoi te lo mando. Te lo mando in. Clique abilitate. Non mi fa salvare. Non so per quale motivo non mi fa salvare. Seba stavamo pensando. Visto che ho visto che non. Ma non mi fa salvare perché? Strunz. Da oggi sono affiliato. Stop. Ho me detto. Grazie mille. Bravo. Ma sarai strunz. Salva l'altro file. Adesso abbandono il lavoro. Adesso esatto. Quello che ho fatto io. E poi mi sono trovato con un pugno di mosche in mano. E due tarli. Vedrai che te lo fa salvare l'altro. Sì sì. No no. Me la faceva. Non so perché. Me l'ha fatto salvare quando sono uscito dal file. Ok. Comunque la domanda era giusta. Mancavano proprio quelli lì perché non li ho scritti perché sono stronzo. Comunque sono quei quattro lì che mancavano. Comunque te li ho scritti. Sei riuscito a copiarli? Se no ti ritorno indietro. Volentieri. Ah no. Era solo questo qua che mancava comunque. Allora dicevo. Visto che Seba visto che fai fatica a pronunciare le cose. Stavo pensando. Non quando faccio la spiegazione. Ma quando facciamo la lezione degli esercizi. Se lo volete fare anche orale. Nel senso ci mettiamo tutti su Discord. Tu devi comprare un pc decente. E facciamo la lezione su lì. Così se sbagli ti picchio. Ok. No perché se pronunci G al posto. Cioè se pronunci G al posto di Ghi. Cioè non va bene. O Ghi al posto di G. Così mi accorgo se sbaglio. Perché se lo sbagli continuerai a sbagliare la vita. Se nessuno ti corregge. Male male male. Male male male. Esatto. Ci sono anche io su Discord. Se mi mandate l'invito. Eh no. Non abbiamo ancora creato niente. Comunque te lo mando. Buongiorno Joe. Buongiorno Joe. Buongiorno. Allora niente. Magari scrivo perché continuo a parlare. E non sto scrivendo un Kaiser. Stiamo facendo gli esperimenti. Facciamo galleggiare la cipolla. Come on baby. Come on baby. Tamane ghi ta bereru. Questa è la canzone di Shinchan. Per chi non lo sa. C'è il server di Hansam. Ah è vero. Possiamo usare il server di Hansam. Tanto non c'è più nessuno. Sono rimasto solo di Hansam. Allora. Solo che io non so usarlo il disco. Serve qualcuno che è capace di usarlo. Buongiorno Simone Sato. Chi è Simone? Chi è Simone? Chi è Simone? Aspetta. Io Proto. Non lo sapevo. Piacere di saperlo. Pronto. Ok. Ho perso la penna. Aspettate che ho perso la penna. Che ieri stavo facendo vedere. Non si scrive la metà. Oh che cangi dici. Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici. Piacere io. Sono Samantha. Fox. Allora. Mi manca anche. Ah mi stavo dicendo. Non trovo più. Fujiko. Mi sa che Massi ha colpito. Invece no. È qua. Ciao Daniel. San Sebastiano. No. Non mi sta giù libero. Mi serve qualcosa di più pesante di Fujiko qua. Come faccio? 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 10-4. 9-4. 10-4. 10-4. 9-4. 10-4. 10-4. 10-4. 12-5. 12-5. scatoloni e un sacchetto è uscito per quello devo controllare gicche in realtà due scatoloni e un sacchetto esatto gicche è uscito pieno di manghilo l'ho mangato a morte praticamente gicche vedi addiruttura un sacchetto la prossima volta quando mi danno i manga di distribuire li dividiamo fra più gente io li ho dati a quelli che c'erano l'altra volta così imparate a leggere poi c'è qualcuno che ha i mangi e mi legge ghi al posto di g e viceversa cioè lo volevo picchiare ieri faceva le live e diceva guarda c'è misugi chi è misugi figa l'hanno pure affiliato che legge male il giapponese l'immorte allora gicche in esperimento che ha usato e seba misugi poi cos'è che diceva ce n'era un altro che ha cos'era tachibana dice takibana le emoticon le emoticon sceglielo bene stai attento non fare come quella lì che la tua amica che usa i cosi cui coprirai niente pikachu che poi va in giro è no dire di no è esatto esatto mi diceva mi ha insegnato il giapponese quello lì senti qua è arrivato tachibana tachibana cioè mi sono ribaltato dalla sedia e volevo morire anche chi è tachibana e poi poi ma non l'ho tutto tachibana ancora a parte che nel gioco c'era scritto mi sembra kazuo e masao che se erano i nomi e lui cercava il cognome non lo trovava e ce li aveva davanti fa ma non ci sono più nella squadra ma dove sono dove sono io davanti ai tuoi occhi sono lì masao e poi c'era parlavano in giapponese mi diceva eh ma sto leggendo come stai leggendo se c'è il parlato giapponese mi devi dire sto ascoltando visto che sei il giapponese cosa leggi i sottotitoli in italiano stavo diventando faccio allora giken esperimento andiamo avanti ma non so non finisco più ho scritto giken tipo tre volte che poi non serviva ne bastava una sola allora partiamo scusate mizu ni oku monoto se metti la se no mizu ni oku monoto giri giro punto le cose che galleggiano nell'acqua e mizu ni oku non ho mai visto il kanji oku perché di solito uso shizumu però oku non l'ho mai usato oku monoto le cose che che galleggiano sull'acqua to e le cose shizumu e queste sprofondano invece shizumu shizumu monowo mi wa kerareru riesci a capire o riesci a distinguere le cose che galleggiano le cose che non galleggiano cioè le cose che sprofondano sarebbe che non galleggiano nell'acqua mi wa kerareru figa allora questo qua non lo so hai tai tai seki forse tai seki tai seki che dovrebbe essere volume ma anche questo è uno dei kanji che bisogna imparare oggi tai seki che è il volume tai seki tai seki no wari ni considerando il volume e le cose leggere ni karui monò karui è leggero comunque sono entrati su il server di discord ok bene io sono già lì quindi a posto karui monò ga uku si uku prima ho detto uku dovrebbe essere uku è uku scusate uku è galleggiano uku to omokedo manca sei ma credo penso sta lavorando penso che galleggiano le cose più leggere in baso al loro volume che cosa interessante to omokedo poio andan e decisione andan wa musukashina è difficile prendere una decisione è difficile fare una valutazione sono sebastiano 90 su discord andan e giudicare sono sebastiano 90 sono gli su toronzi che galleggiano quello sempre allora tic 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 andan giudicare o prendere una decisione muzukashi è difficile muzukashi muzukashina ah comunque seba puoi farti vedere nelle live di pokemon se poi sei un professionista io ti consiglierei di fare vedere la tua faccia fossi brutto vabbè se sei un bel ragazzo fate vedere tamaneghi è cipolla come on baby come on baby tamaneghi ta vero e poi infatti gli dicevo a massi minchia questo qua sa tutti i nomi dei po ma non ci ho voglia di farmi vedere sa tutti i nomi dei pokemon e non sa dire chi è g figa come è possibile uku parla a quello che mostra solo il pacco no io vi faccio vedere in pace non ho problemi ho una telecamera non due facciamo la lezione che parliamo posso anche mettere la telecamera cioè nel senso metto la faccia non c'è problema però se vi fa vedere che sto scrivendo tipo adesso se mi guardi in faccia mentre scrivo anzi neanche in faccia mi vedresti il centro della testa mentre scrivo perché ho la testa giù allora è difficile prendere una decisione guarda la cipolla galleggia andawa muskashina e tamaneghi wa ukunda ok il primo kanji è uku galleggiare qua si pronuncia anche fu e naturalmente non ci mette l'esempio perché è asciutto ronzo comunque si pronuncia anche fu non so perché non mi mette gli esempi uku ha persino fatto vedere mako sama eh esatto io non ho problemi frega in cacchio uku cioè non è che tanto sono più bello di james dean la testa pira pira ancora io non ho pica pica non pira pira è come pikachu pica pica una bellissima giapponese bravo diglielo se lo dici quando c'è lei è più contenta se lo dici quando sono io vabbè normale non la sposavo se era brutta ga uku ma soprattutto è più giovane di me che è la cosa basilare certo così io divento vecchio e lei rimane sempre bella giovane uku galleggiare ga uku poi abbiamo ga ukabu ga ok sempre galleggiare ukabu ukabu uka uku uka bu è sempre solo la u e poi abbiamo uo uka beru che questo è il transitivo io vi scrivo galleggio per farvi capire transitivo uo uka bu perché perché io transitivo e intransitivo non l'ho ancora capito uka beru uka beru ok ho saltato la u la scrivo qua sotto ok poi abbiamo shizumu che è sprofondare o cinque però non mi fa l'esempio perché il libro è su toronzo ah e domani cosa faccio non so cosa fare faccio gli esercizi cioè tipo ho questi libri qua faccio gli esercizi di questi libri qua che sarebbero gli esercizi tipo quelli che danno all'esame però dovrei ripassare prima di fare gli esercizi non ho neanche ripassato o uso i miei libri vecchi o è tipo ho l'uno però è la versione di mille anni fa questo qua penso che sia del 90 o del 2000 una roba del genere facciamo un ripasso e quando quando l'ho preso aspetta questo qua è del 1992 è il 2001 questo libro vent'anni no sì vent'anni fa 2001 che però è strano non è neanche segnato cioè non è o era così pressato bene che non che non l'ho schiacciato però sono tutti esercizi ma la spiegazione dov'è? non ci sono sono solo esercizi e allora se sono esercizi posso farlo però no sono solo esercizi what? è la spiegazione? sono tutti esercizi abbiamo detto voi assieme ah bene no sono tutti esercizi mi sa che usa questo sono tutti esercizi ma strana sta roba vabbè sono esercizi tanto esercizio esercizio magari faccio il 2 faccio il 2 questo qua questo qua di che anno è? ma io mi sa che questo qua non è mio è del fratello di Marco perché il mio è del 93 è possibile che 1992 la prima stampa 2000 la seconda no questo è del 2000 però no io nel 2000 lo parlavo già al giapponese no questo qua del fratello boh questo qua l'ho rubato a qualcuno non è mio ah ho trovato dentro un Deppian fantastico unico questa azienda non esiste neanche più poi unico sono tutti esercizi boh proviamo a fare ma il fratello di Marco non sa il giapponese il fratello di Marco è giapponese però lo come si chiama aveva cioè nel senso quando abitava qua viveva con un italiano aveva un libro e aveva i libri di testo questi qua non sono miei infatti non sono neanche segnati cioè questo qua è sicuro che è il mio vedi la differenza sporco di marmellata eccetera eccetera che si vede che l'ho usato se vedi questi qua a parte che sono in un formato diverso sono più piccoli e poi sono puliti i miei si vedono io li uso i libri no no non per insegnare viveva a casa con dei ragazzi italiani che studiavano il giapponese cioè viveva con altri ragazzi viveva con un giapponese e due italiani all'inizio quando era la prima volta che erano venuti in Italia e mi sa che questi libri qua si sono mischiati i miei libri con i loro e poi mi hanno dato i loro e gli hai rubato un libro già rubato esatto cioè gli ho rubato dei libri nel senso io ce l'avevo ma il mio era il formato gigante vediamo l'anno scusa di questo qua lui ha imparato L italiano no l'unica cosa che ha imparato a dire è alla pescatora perché doveva portare una ragazza a cucinare l'ho trovato alle tre di notte in cucina che diceva alla pescatora e gli diceva serio incoglionito cazzo stai facendo ehi dovevo portare una tipa fuori a mangiare domani e voglio fargli vedere che è solo italiano capito ma sai solo dire i nomi dei piatti ricoglionito infatti ogni tanto il bello che in Giappone lui ha detto che sa l'italiano perché lui è stato qua tre anni mi sembra però non ha mai studiato l'italiano e fa l'architetto e niente nella società dove lavorava gli diceva che sapeva l'italiano no gli diceva che sapeva l'italiano e mi mandava come si chiama e mi mandava i messaggi per scrivergli le frasi e robe varie perché poi gli hanno detto un giorno gli hanno detto fammi la presentazione in italiano no vedi questo 1995 c'è una differenza di anni questo è del 95 quelli lì sono del 2001 sono sei anni di differenza come se io dicessi che so il giapponese perché sono i nomi dei Pokémon esattamente esattamente così ma almeno tu gli sai i nomi dei Pokémon lui non sapeva neanche dire alla pescatora ha detto alla presentazione e lui che sì alla presentazione praticamente aveva il mio foglio con le scritte in italiano e lo leggeva tanto lui diceva devo fare la presentazione in italiano per fare il figo ma nessuno sa veramente l'italiano perché erano tutti giapponesi quindi ha fatto la scena che lui sapeva l'italiano e basta e poi ogni volta che gli chiedevano le cose in italiano mi manda il messaggio io gliele traducevo Shizu allora Shizu o Chin Chin non ci fa l'esempio perché è Struz Gashizumu sempre transitivo e intransimitivo questo è quello generale perché c'è il G davanti Gashizumu che è quasi sempre così ma non e tu gli hai scritto il testo da leggere Shizumu esatto io gli ho scritto il testo da leggere lui l'ha letto naturalmente con la sua pronuncia io so il giapponese Aime Mashi Tenguatashi Iva Massimo di Suduzo Yoroshiku Onegaishimasu bravo così si fa Massimo magari lo scrivi in giapponese era meglio però va bene esatto io gli ho scritto praticamente in giapponese quello che doveva dire in italiano cioè gli ho scritto in italiano con come si chiama con i caratteri in iragana in modo tale che lui leggeva e sembrava già italiano allora Gashizumu o Shimeru Shizumeru sprofondare o andare a fondo aspetta che questo galleggiare non me lo so scritto galleggiare non lo so galleggiare questo qua andare a fondo lo so o Shizumeru tipo il Titanic o Shizumeru o affondato il Titanic in iragana addirittura non riusciva a leggere il ramagi in iragana no non riesce a leggere il ramagi perché lui ha sempre detto tanto io tornerò in Giappone che cazzo studiò l'italiano a fare e la scuola che faceva da architetto era anche mannaggia era in inglese le lezioni e lui non sapeva neanche l'inglese però l'hanno promosso lo stesso perché pagava una scuola molto seria dire e poi è andato a fare l'architetto in Giappone e ho capito non gliene fregava niente bene che ti devo dire mi diceva lui e alla fine ha avuto ragione per intanto è andato in Giappone tranquillamente l'hanno preso a fare l'architetto adesso ha costruito anche un hotel c'è tre c'è tre piccoli palazzi che sono un hotel dove c'è a Yamanashi vicino al Montefugi per far arrivare i turisti però i turisti in questo periodo e come gli inglesi e gli americani è una decisione lui dice tanto io me ne vado che me frega me allora poi abbiamo Tsumu accumulare non imparano altre lingue o Tsumu e vabbè perché loro dicono tanto la mia lingua è quella che si usa di più alla fine quello ricolo diventa l'UXD Tsum è secchi Tsumu è accumulare o Tsumu poi invece fa il contrario o Tsumu Tsumu accumulare e qua non so in teoria questo dovrebbe essere per accumulare per legge questo qua dovrebbe essere quello il verbo e l'altro cioè il verbo il transitivo e l'altro intransitivo però me li ha invertiti non vorrei che sia l'opposto che nome ha il fratello di Marco Tsumu eh non esce neanche Tsumu perché me lo scrivi così però me lo scrivi Tsumu mi esce anche solo il caso vabbè sempre accumulare Tsumu accumulare poi che nome ha è Takashi il nome più facile del Giappone praticamente Takashi e Ponte Alto si scrive proprio Takashi Takashi questo è alto e questo è Ponte Takashi Takashi Endo Endo come fine allora mi sono perso Taiseki e Volume un architetto nel nome Taiseki esatto ce l'aveva già l'architetto dentro prima di nascere come si chiama come i Cavalieri dello Zodiaco che in italiano avevano il nome Cigno Dragone prima di nascere sapevano già che erano i Cavalieri di Nascere Taiseki volume traduzione fatta da Dio volume Pegasus esatto tu nasci ti chiamo Pegasus giusto il mio nodo è Pegasus allora Andan mi sono perso Menseki Menseki esatto ovviamente Menseki non è no no mi sto confondendo Menseki non è proprio Menseki lo controllo dovrebbe essere aria zona Menseki lo controlla poi me lo controlla più che altro mi suona come qualcosa che so ma non è quello mi sto confondendo con tutte queste donne aria come si chiama omoshiroi omoshiroi interessante surface surface come si dice superficie ecco superficie superficie e aria aria di casa mia omoshiroi sì sì questo qua è quello di anche come si chiama gamen quello di schermo gamen omoshiroi poi c'è mi sembra magime omoshiroi questa cosa lo faccio ogni tanto di esercizio poi c'è magime magime lo hippo cioè di trova un kanji e prova a scrivere tutti i kanji che mi vengono in mente di solito lo faccio mentalmente questo esercizio però tipo questo qua mi sembrava cioè me lo confondevo con mensetsu però mensetsu è ah no esce lo stesso mensetsu è come cacchio si chiama colloquio di lavoro o intervista per quello quando ho visto mensetsu cioè mi veniva in mente mensetsu invece no perché è quello che uso di più yoseki è capacità capacità yoseki yoseki capacità certo capacità poi se kyoku teki ah se kyoku teki non era positivo com'è che si diceva positivo non me lo ricordo più boh non me lo ricordo più se kyoku teki qua dice attivo mi sembrava positivo vabbè se kyoku teki io me lo ricordavo come positivo adesso lo cerco se kyoku teki no aspettate che lo cerco a dici attivo ma io mi ricordavo che era positivo e negativo magari me lo sto confondendo no positivo vedi che allora sei stronzo è giusto positivo che l'abbiamo fatto neanche poco tempo fa o attivo ok poi andan andan è splitare in due ioban è reputazione saiban è una brutta parola da dire e non dirlo a me che sono l'unico stronzo che l'ha fatta e stia ci stavo anche rimanendo offeso ci stavo rimanendo offeso anzi ci sono rimasto offeso c'ho un polmone rotto allora an an è splitare che non uscirà male eccolo qua an e allora sei stronzo me l'ha cambiato e questo qua ok e me lo cambia ok me lo lascia adesso grazie an che è splitare splitare hai ancora problemi respiratori eh sì ogni tanto mi sgonfio cioè quando parlo sentite io faccio così ho fatto devo fare l'attack a mannaggia anzi li devo chiamare perché mi hanno fatto la visita e cos'è stato 18 gennaio ho visto che ho ancora problemi al lato sinistro cioè che non sono guarito bene quindi adesso è troppo presto per far la cura le tue recensioni hanno raggiunto un nuovo record ma che stai dicendo ma di che recensione stai parlando ma non ho mai anzi per chi usa il cervello mi è venuta la fissa siccome ho un bel sì perché c'era gente stupida quindi ho dovuto mettere vogliamo solo persone intelligenti mi è venuta la fissa siccome sì come on baby come on baby e non posso metterla però cercate cleo shinchan prima sigla opening e c'è questa canzone bellissima forza forza mi mangio le le cipolle che a lui non piace allora and splittare andan andan è giudicare o si giudicare andan andan giudicare giudicare poi ioban e reputazione tipo se è una persona di mierda e si dice ioban è una brutta reputazione e questo qua è lo stesso di ioka dovrebbe essere ioka che è valutare sì sì no comunque devo fare un ripassone perché sennò qua faccio un remix almeno puoi studiare pure il ninja sì quello sì no però poi non vorrei che ci sia troppa gente e non si capisce più niente capito ioban cioè nel senso quelli che devono fare la lezione possono parlare gli altri no perché se no non si capisce più niente e naturalmente solo quando facciamo gli esercizi quando faccio spiegazione non ha un senso ioban reputazione reputazione e poi abbiamo saiban che però questo qua perché mi mette trial al massimo parlano a turno esatto no devono parlare a turni per forza saiban e processo saiban processo non avrebbe essere processo tribunale qua mi mette trial ma che cazzo sta dicendo trial ma lo scrivo saiban gli actesi saiban trial giudizio esce trial veramente io ho sempre detto processo esperimento è processo trial ok non sono stronzo judgment processo comunque giusto cari cate ipo cos'è ipote ipote oh mio dio non so cos'è questa parola vabbè cari ah no ho saltato c'è niente ho saltato dovevo scrivere un altro cangio ho saltato cinque cangi techi sui techi i techi i techi cosa cacchio è techi questo non lo conosco allora cinque non mi so viene alla mente quindi no questo è nuovo per me techi techi che non è questo cioè simile ma non è lui non è lui non è lui è questo questo qua non lo conosco techi per fortuna è una pronuncia sola questo qua mi sa che per contare si usa è un altro di quelli è un altro dei suffissi dei contatori sui techi questo lo cerco non lo so sui techi e poi c'è i c techi o i techi sarà i techi sì è i techi un bel nuovo suffisso vi piace il suffisso dei numeri eccolo qua lo cerco perché non lo conosco techi techi è per le gocce A esatto una goccia due gocce tre gocce dovrebbe essere drop allora lo cerco giusto per goccia drop mette goccia di liquido o goccia mette anche drip drip cosa è drop lo so drip no goccia è sempre goccia sgocciolare drip e allora sui techi è il sgocciolamento d'acqua questo dovrebbe essere acqua che sgocciola mi sgocciola l'acqua acqua e non l'ho mai usato mi sgocciola l'acqua sinceramente acqua sgocciola mi sgocciola e invece qua è una goccia due gocce tre gocce ah grazie sogno non l'ho mai gocciato sinceramente no poi ai ragazzi piacciono piacciono molto domandina in un anime dice la protagonista quando fa qualcosa materu rinne no ragrange rinne non lo conosco materu e puoi aspettare dipende come è scritto però materu materu e puoi aspettare se è scritto giusto dovrebbe essere con due tipi materu materu per la stessa cosa puoi aspettare è tipo puoi aspettare il teorema di lagrange non lo conosco io conosco rinne no è quello lì che ha fatto urs e jazzo non mi viene in mente il titolo è qualcosa no rinne però al contrario non mi ricordo più c'ho un'amnesia è un matcha io che c'era il tipo che vedeva i fantasmi cioè che lui era un fantasma praticamente era un stranamente era un era un era un quel che si chiama un shinigami non l'hanno mai usato il tema dello shinigami allora tsuseki tsumu accumulare tsumoru accumulare l'ho scritto giusto bo tai seki volume menseki superficie lo shinigami non è il dio della morte shinigami si esatto shinigami è morte o dio delle morte è la stessa cosa quello di dea th note si anche quello di death note ma l'hanno usato in mille in mille anni e sei un fantasma rinne no ragrange non lo conosco l ho visto stamattina un pezzo ma è nuovo anche in bleach anche in bleach sì in marea di posti l'hanno sempre usato quel tema lì a me piaceva com'è che si chiamava non definito come si chiamava di grayman mi piaceva che non l'hanno mai finito vabbè cioè che l'hanno finito col culo di colpo hanno fatto la fine senza motivo andan di grayman era fico yoban saiban saiban allora ogni volta questo qua lo riconosco ma non riconosco questo qua saiban poi techi soprattutto ma il manga sta continuando eh lo so se lo so che il manga continua soprattutto l'hai visto con i sottotitoli no vero non si usano i sottotitoli quando si guardano gli anime ah ieri tra parentesi abbiamo guardato Conan solo esce un capitolo ogni due mesi abbiamo guardato Conan senza sottotitoli io e Massi e lui mi traduceva tutto quello che dicevano dicevo bravo ho imparato bene bravo allora siamo arrivati a secchi qua ok non mi ricordo anche di più esce un capitolo ogni due mesi eh lo so è così il manga non è che escono in fretta che altro tieni conto che escono sui jump vari quelli lì che sono tutte colorate escono 10 pagine esatto che ti ha fatto bere no io non ho bevuto niente io non bevo mai lui ha bevuto la birra amoretti cinese che però erano amoretti veri su secchi pensavo che gli davano una zingdao invece no allora poi abbiamo mangiato la pizza lessa perché nel tragitto che abbiamo portato la pizza a casa si è lessa nel cartone molto buona ve la raccomando pizza lessa allora tsumu accumulare uo tsumu accumulare mi sta finendo la punta della penna tra un po' userò qualcosa nessun whisky eh no non ce l'avevo il whisky a casa anzi no ma sai che io mi sembra che ne ho uno che si chiama Ibiki che me l'aveva portato Mako ce l'avevo sotto il coso se me lo dicevi che lo volevi te lo davo tsumu che però io non lo bevo Elia marci ga tsumu l'aveva comprato per il mio amico e poi il mio amico l'aveva comprato già anche lui quindi ne abbiamo due uno rimasto qua tsumu accumulare tai secchi volume tai 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 100 euro la bottiglia tai 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 100 euro bottiglia no non penso che costi così Mako l'aveva preso all'aeroporto tai secchi costa così tanto sì tai secchi io mi ricordo che l'ha preso al duty free una roba niente gli ha chiesto di prendere la duty free l'ha preso ti assicura mensechi mensechi non mi tipo questa parola qua nella mia testa come per come per seba che legge chi al posto di c questa parola qua mensechi non ha il significato di superficie o aria mi sembra che abbia un altro significato nel mio cervello non so perché l'ho già sentito da qualche altra parte ma non mi viene magari un altro kanji aspetta provo provo a vedere perché io mensechi l'ho già sentito da altre parti ma non mi significava quello di mensechi ah sì hanno un altro kanji che potrebbe essere un altro kanji vediamo cosa cosa significa mensechi se è quello che sento io più spesso ma adesso esce se poi esce fava gigante ehm disclaimer no ah mensechi no non lo uso no immunità diplomatica quando mai l'ho usato no niente sono fuori di testa ma è corretto ah no però mensechi si potrebbe no magari nei film polizieschi tsusechi accumulare 3177 dov'è no queste qua allora quello che vedi qua che la prima il primo kanji che scrivo in alto con il numero diciamo queste qua sono le pronunce tsusechi infatti se vedi da solo è tsù si pronuncia tsù che te l'ho evidenziato invece è sechi quando è in compagnia quando c'è un altro kanji in generale è così però c'è sempre l'eccezione quindi in generale quando lo trovate in compagnia si pronuncia sechi quando lo trovate da solo si pronuncia tsù normalmente ogni numero metto la pronuncia di kanji tipo qua ce n'è solo uno quindi non posso metterne qua ce ne sono due e il libro è così simpatico che non ci ha fatto l'esempio con fu qua invece ce ne sono due e il libro è simpatico non ci ha fatto l'esempio con cin però scrivo tutte le pronunce che ha il kanji normalmente poi naturalmente me le dovrei ricordare però ormai ho così tanta confusione in testa allora o tsù mensechi l'ho fatto che me lo devo scrivere che superficie e aria che per me significa un'altra cosa aria però immunità diplomatica magari quando vedevo i film polizieschi l'ho già sentito vabbè forse è quello lì che mi 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 in mente yoseki yoseki mi ritorno in te se vuoi un esempio con cin silenzio com'è che si pronuncia cin aspetta lo copio non riesco a copiarlo non me lo copio maledizione cin 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 c'è vero è tipo quella la parola la conosco ma non sapevo che si pronunciava così grazie cin 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 più che altro almeno abbiamo gli esempi se no non ha senso thank you very grazie cin 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 silenzio parla e una cosa che non so se voi l'avete notata o no ma la maggior parte delle volte i kanji sono a uno due o tre certi hanno anche quattro però in generale quando li trovate soprattutto a doppi sono due o massimo cioè tre intendo per me questo qua è doppio kyo per me è doppio a voi sembra tre comunque sono a due a due andan yoban questo qua dite è tre no perché yo è hio è così non è un tre un due saiban techi sui techi it su techi beh comunque è una mia cosa mentale poi allora yo sechi grazie le usano come congiuzioni quindi sembrano tre sembrano tre ma sono due yo sechi cioè anche per voi per distinguere il cioè qual è la pronuncia di un kanji e l'altra quando vedete cioè tipo se vedete solo scritto yo sechi e poi vi mettono il kanji e vi dicono qual è uno e qual è l'altro riuscite a spezzarlo perché vanno a due a due di solito o uno o tre però è raro che trovate uno o tre la maggior parte tipo questo qua è uno due no questo qua a parte che questo l'ho sbagliato a scrivere è così se kyoku l'ho controllato è uno sezu kyoku che è due perché kyoku più q e techi e quei na è fuori uno due tre cioè si spezza qui qui e qui mi sono perso yo sechi yo sechi capacità anche questo non lo conoscevo cioè nel senso lo uso così tante volte capacità anche in italiano allora cioè capacità inteso come volume cioè come capacità di contenere dovrebbe essere perché questo qua è quello di naio dovrebbe essere il kanji di naio che è contenuto naio na i i o u sì è quello di contenuto ok sekyoku tekina questo ogni volta lo vedo muzukashi muzukashi non è fatto da tre ah sì quello si si ma è da solo io sto parlando di quelli in compagnia jo io sto parlando di quelli doppi quelli doppi quasi mai sì 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 no quello sì no io sto parlando di quelli doppi non del kanji singolo non del kanji singolo ok tipo muzukashi è questo ho capito male no no non era konan konan non era konan oh mio dio konnan aspetta konnan vedi si legge nan in compagnia non si legge più musu si legge nan questo è tipo difficile e con questo qua è sempre va a due c'è una cosa che ho notato io infatti non so se è una regola quando li trovate doppi vanno sempre a due a due e le pronunce è vero poi va bene ripeto una cosa mia mentale tipo quella la storia del ga e uo tipo qua che uno è transitivo e l'altro è transitivo e uno vuole sempre il ga l'altro vuole sempre o in teoria quello col ga è quello generale e o è quello che vuole il soggetto in generale però c'è anche l'inverso cioè al 90% è così dove fava sono sekyoku teki qualcuno si è iscritto al mio canale di youtube mi sono quasi emozionato non si iscriveva più nessuno dal 1987 sekyoku teki mi è scesa una lacrima namidaga koburu koburu si diceva sembra di sì allora sekyoku questo qua si no è giusto invece questo qua quando trovate teki trasforma sempre la parola in un avverbio questo dovrebbe essere positivamente più che positivo sekyoku teki na positivo perché sono vivo andiamo avanti andan questo qua si usa spesso quattro andan che è splittare andan giudicare o o spiegarmi andan cioè prendere una decisione tipo andan lo uso anche lì andan suru poi abbiamo yoban che è reputazione e l'altro invece yoka che è valutare lo stesso yoban yoban prima che poi imparo così tante pronunce che quando li vedo iniziare a mixarle tutti come l'altro giorno ho letto una cosa facilissima che era tipo cos'è che era una cavolanta tipo ma non me la ricordo più forse era così tipo zenkai ho letto maekai una roba del genere ho letto una puttanetta poi vado a sbagliare le cose facili e saiban invece il primo non me la ricordo mai proprio lo so a memoria come kanji ma il primo ogni volta che lo vedo dico mi blocco eppure lo so però mi rimane è bloccato è bloccato nel mio hard disk c'è un settore rovinato saiban saiban processo poi abbiamo ioban l'ho fatto reputazione ioban me lo scrive reputazione reputazione lo so però ogni volta mi dimentico techi techi ma la domanda cosa c'entra goccia d'acqua nella lezione che stiamo facendo techi techi a parte che ha a che fare con l'acqua perché questo qua significa acqua quello del kanji di fi techi mizu che poi sarebbe mizu cioè questo mizu qua e questa parte qua del kanji laterale ieri vi ho fatto vedere a massi il mio fantastico dizionario che usavo per tradurre i kanji all'inizio che dovevi praticamente contavi questo tre e poi dovevi contare i segni e poi in base al numero dei segni dovevi andarti a cercare il kanji kanji numero quattro per scrivere Giovanni con i kanji perché vuoi scrivere Giovanni con i kanji no è orribile perché si deve scrivere Giovanni quando si scrive in iragana io non lo farei mai vediamo cosa esce fuori mi piaceva cos'è che hai messo però non mi esce niente allora Gin vabbè essere umano e l'altro Alex perdona la domanda ma i kanji li disegni precisi come il pc perché mister precisi direi no è diventato giallo è perché a lui piace cambiare ah uno giudica like better best uguale io le parole i nostri cioè i nostri nomi così ho sempre quando mi io ho lavorato anche in un negozio che facevano i tatuaggi e quando venivano a chiedermi di fare le scritte in giapponese non gliele facevo mai con i kanji più che altro perché è una cioè nel senso io le lo posso mettere anche col kanji ma poi un giapponese non lo legge come cioè potrebbe essere un'altra pronuncia non lo legge come l'hai scritto sui techi e quindi si metteva sempre in katakana e basta acqua sgocciola o sgocciola l'acqua o perdita d'acqua aspetta un secondo questo non l'ho cercato magari è perdita dall'acqua i techi no l'acqua che sgocciola no li scrivo in corsivo aspetta che te lo te lo te lo te lo zoom così lo vedi comunque a parte che la penna mi scrive male però è una scusa però non so se si vede lo scrivo in corsivo poi mi manca la punta sulla sulla penna però si tendo a scrivere più vicino possibile però è normale in corsivo sto scrivendo i techi cioè almeno tendo a tenere il senso di scrittura praticamente dall'alto al basso e da destra a sinistra quando si scrive in giappone poi magari faccio qualche segno prima di un altro perché sono strozzo così si vede bene quando lo hai appoggiato ok scrivo anche io in corsivo e techi l'importante è che non lo riesci a leggere tu infatti molte volte mia moglie mi dice ma qua non si capisce ma non lo capisci tu tipo chi io lo faccio così ma è figa ho appena cambiato il telecamera aspetta infatti mia moglie dice che chi non si capisce ma l'importante è che lo so leggere io a me non me ne frega niente aspetta non so se si vede io praticamente faccio i due segni e non disegno questa parte qua faccio tipo la x con i due segni e poi il pezzo sotto questa parte qua non la disegno aspetta che sposto la luce quello che ho scritto io e uno essere come due un giudice tre misericordioso sì sì come quello sì l'ultima persona Alex lascialo appoggiato alla scrivania alla scrivania eh ma così non vedi una fava è piccolissimo non mettere a fuoco si vede si vede ok si si legge ok perfetto praticamente io faccio i due segnetti faccio questo i due segni e questa parte qua non la faccio faccio solo il segno sotto anche se faccio una x e il segno sotto cioè la bombatura qua non la faccio però la mia scrittura corsiva è così non è che è giusto così come lo faccio io però cioè in teoria si alza questa parte qua cioè non si fa completamente unita se vedete cioè questo questo font la fa unita però se usate altri font non è così tripa lei tu fai la decima io una virgola sì però l'importante è che tu riesca a leggerlo bene è finita allora e che continui a usare quel metodo lì perché è il tuo tipo di scrittura tipo io in italiano scrivo ancora la L cioè come scriveva cioè come scrivevano all'elementario non ho mai avuto un mio corsivo dell'italiano sei cari questo non lo so temporaneo questo non lo so cari il tuo chi sono tre linee sbarrate vado a recuperare il temperino torno no faccio la riga con due sbarre e un segno sotto non ne faccio tre è due 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 cioè praticamente il mio chi è le due righe cioè come se fosse così aspetta è come se fosse il chi quello in katakana per renderci conto sì ma sembrano tre eh sembrano tre ma non lo sono aspetta faccio questo segno qua e poi sotto faccio un coso tondo cioè faccio così proprio e poi faccio un pezzo sotto cioè questa parte qua tondeggiante non c'è cioè io non la disegno faccio solo tatatata che sotto io ho sempre fatto così e c faccio la stessa cosa faccio la x incrociata dietro quel coso e il macco dice che non si fa devi farlo unito sa faccio la stessa cosa faccio una x così e il segno sotto e basta cioè poi lì sta a voi potete scriverlo tutto unito no a me piace scriverlo così cari e se vedete lo faccio in tutti in tutti in tutti i punti è uguale è scritto uguale allora cari non lo conosco bene non è neanche questo il cari va bì che poi per scrivere si usa il pc sì se scrivi col pc è un altro discorso però scrivo appena ho usato così cari e caccia però in questo caso è un altro cari e non lo trovo dove cari è? ah no ca come cari eh ma come ca è peggio vai niente devo scrivere catei perché se no non mi esce catei catei questo non è è un altro catei e te pareva questo è ok l'ho trovato questo poi non lo conosco si pronuncia ca o cari cari in teoria deve uscire di solo non esce sì invece esce questo stronzo io e adesso andiamo a vedere cosa significa cari cari temporaneo provvisorio lo dici tu temporaneo mai usato in vita mi poi catei catei è tipo catei per me sono le cose di casa infatti esce catei mi esce già il kanji perché sono sempre questo invece è un altro è la stessa pronuncia kanji diverso catei ipotizzare dovrebbe essere una cosa del genere aspetta che lo cerchiamo nel dubbio cercate sempre almeno non vi vogliamo per la gioia di max cambio colore supposizione supporre con suru supporre ipotizzare ipotizzare per la gioia di max cambio colore ancora e poi ci devi spiegare come si fa allora iragana anche iragana si scrive con questo kanji iragana non esce invece no iragane quindi è mezzo temporaneo nome mezzo nome temporaneo nome nome temporaneo mezzo iragana iragana non è traducibile iragana iragana ok poi kaku questo qua è quello di comparare sì ikaku kaku questo lo so kaku dove kakio è lo so ma non esce vabbè scrivo ikaku ikaku che è comparare questo qua è quello di kuraberu kuraberu che è comparare però noi stiamo imparando l'altro kanji che è quello di ferruko kaku comparare allora ikaku suru è comparare ikaku suru non li scrivo mai abbiate pietà però non posso scrivere suru mille volte tanto tutte le parole con suru diventano verbo comparare il botone chat su pc si clicca sulla rotella dentata vicino al bottone chat sul pc ok questo non lo sapevo vicino al bottone chat sul pc che si clicca sulla rotella dentata sotto allora ikaku dove kakio è ikaku tekina e comparativamente vedete che quello che vi dicevo prima ikaku tekina se trovate questo qua diventa un avverbio praticamente infatti prima avevo detto positivamente anche se non l'ho scritto ikaku tekina ikaku tekina un bottone viola con la scritta ok comparativamente ok lo so fare adesso grazie Joe non ho mai capito come si faceva ikaku ne scrivo anche un altro tociu questo qua è quello tociu è questo qua l'abbiamo letto ieri Massi ti ricordi? no non ti ricordi sicuramente che era quello vuoi uscire a metà partita tociu tociu dura non è questo non è questo non è questo non è questo non esce perché non esce tociu mi mancava una u e sì mi mancava una u quello lì è durante la partita nel tociu tornado ben tornado si pronuncia solo to per fortuna io conosco solo tociu che è durante nel mezzo di nostra via tociu a metà o durante io lo uso più come durante durante yoto non lo so applicazione yoto questo non lo so non mi ricordavo come non ti ricordavi che ieri sei uscito mentre giocavi a poker e ti ho detto che era quello lì il tasto vabbè maledetta primavera allora devi giocare più a poker per ricordarti di più yoto allora applicazione questo non l'ho mai usato in vita mia applicazione questo lo conosco proprio questo qua lo uso spesso non ho mai sentito allora insegniamo questi fan a parte che questo carico scusate figa Kamen Rider guardalo lì non lo so e cosa significa temporanea maschera temporanea che cazzo di significato no ma Kamen e maschera questo qua insieme tutto è maschera comunque maschera da motociclista comunque è quello di Kamen Rider infatti dicevo lo conosco ma non me lo ricordo infatti eccolo lì allora Kao Kari Kari è temporaneo quando lo trovate da solo solitario in compagnia diventa Ka Katei che è supporre ipotizzare Iragana che è Iragana Iragana che qua diventa Ga perché perché Ka suona di merda Irakana fa schifo Iragana suona bene quelle sono sempre significate sempre quando trovate i Nigorie perché suona male senza Ikaku che anche meglio avrei detto Igaku però per loro suonavamo quindi provate a capire quando suona bene o no perché non sei nella loro testa e non puoi capire cioè per me suona bene per loro è soggettiva come cosa Tocciu è nel mezzo nel mezzo del cammin di nostra via e Ioto Ioto non ho mai usato in vita mia questo qua è quello di usare e però lui da solo cosa significa metodo metodo significa metodo via metodo o strada magari non è rosso poi no poi niente poi scrivo allora e come nell'altra lezione con le parole con lo stesso significato esatto quella la lezione l'ultima che abbiamo fatto era interessante questa qua che poi l'ultima lezione di questa parte qua no è questa che praticamente dice cinese e giapponese cinese sarebbero la scritta in kanji giapponese che ti dice la stessa parola che si pronuncia in due modi cioè praticamente quando trovate il kanji più l'iragana sarebbe la parte giapponese quindi kanji singolo adesso mi ha schizzato da un'altra parte del mondo invece quando trovate i due kanji insieme sarebbe tipo la versione cinese tipo Enki Nobiru Kaiten Mawaru eccetera eccetera questa qua è interessante questa lezione a parte che ieri mi stavo fondendo però era interessante sette molti li sapevo allora no sette che siamo ancora sei K e Kari Kari da solo si pronuncia Kari Kari che significa temporaneo questi me li scrivo tutti che non li so temporaneo ce l'ho mai usato in vita mia Kate io sapevo quello lì di casalingua invece c'è vita vita da casa sarebbe Kate o vita familiare Kate dipende sempre dalla situation supporre ipotizzare ipotizzare questo qua me lo dimentico dopo tre secondi Iragana adesso so come si scrive sono molto contento Iragana Iragana poi Kaku questo qua lo conoscevo anche se io preferisco usare Kuraberu che Ikaku Ikaku solo preferisco usare Kuraberu cioè di solito uso l'altro Kaku Ikaku 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 poi dipende anche come siete abituati voi a parlare io preferisco parlare più semplice che usare parole difficili e sbagliare Ikaku che è quello che gli dico sempre a Mako di frasi semplici e basta invece lei inizia a parlare per fare un giro della Madonna tipo mi sono svegliata stamattina però ieri avevo mangiato male ma domani non si capisce io gli dico sempre sì ma che cosa vuoi dire dopo mezz'ora di discorsi il significato di cose semplici mangio la mela fine almeno so che vuoi mangiare la mela allora Ikaku 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 Tekina Fale supercazzole Fale supercazzole sì ma di brutto dopo mezz'ora non ho ancora dopo mezz'ora non ho ancora capito dove voleva andare a parare comparare o posso andare via e tornare che lei continua a parlare poi tanto il discorso non l'avrei capito comunque torno e sta ancora a parlare Ikaku Tekina allora no questo non lo scrivo prima Ikaku Ikaku Tekina no sta da Dio è contenta oggi è contenta quindi va bene Sochoo adesso mi sta già facendo il permesso di soggiorno per vivere in Giappone quindi farò vi farò il video tipo vado a vivere in campagna sì ma in Giappone Pozzetto parte 2 Pozzetto lol To metodo via questo me lo scrivo metodo mi scrivo perché via Toczu nel cammin di nostra in mezzo al cammino sarebbe tra l'altro oggi è Setsuban tra l'altro oggi è Setsubun cos'è? Setsubun no non lo conosco cosa significa Setsubun? Toczu Toczu anche Toczu allora Toczu ci vedo a fare la scena del treno con i vecchietti a vedere gli Shinkansen esatto Toczu questo qua Toczu allora C si scrive per forza con la parte dietro ma come ha detto scrivilo con la parte dietro perché i giapponesi non lo capiscono io invece faccio solo la X sia la parte qua sotto io lo faccio lo stesso perché tanto lo devo leggere io però corretto è tutto molto ah si 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 la festa dei fagioli si si adesso me lo ricordo si 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 non mi veniva in mente ok adesso ho capito adesso che me l'hai detto mi è venuto in mente Toczu Toczu a metà e duramente invece praticamente nella città di Makov c'è solo la le Onsen e il come si chiama? e l'uva che fanno il vino e poi la città di Makov si chiama Otaru no Satok che è la città delle come si chiama? non lucciole come si chiamano? quelle che gli lampeggia il culo spettacolo mi piace già come si chiamano? come si chiamano? la sera come si chiamano? lucciole? no lucciole lucciole ok si chiamano lucciole lucciole sì ok e praticamente loro allevano queste cacchie di lucciole e d'estate fanno una festa e praticamente le lasciano tutte libere tutto pieno di lucciole in giro per per la festa quindi ti mordono vieni morso da zanzare lucciole giganti io ho sempre paura ecco adesso mi è venuta in mente una cosa tipo il papà io gli insetti li odio quindi da loro ci sono tipo scarafaggi e esseri enormi tipo le libellule sono tipo grosse così come si chiamano? i tombo no non si vede la mia comunque non si vede comunque sono enormi e praticamente vado in cucina lucciole anche sinonimo di signorine allegri esatto per quello pensavo che era sbagliata la parola vado in cucina e c'è praticamente un cocomero enorme e mi fa guarda che bello guarda cosa c'è sul cocomero figa guarda c'era un un come cacchio si chiama? quello con le corna il cabuto musci c'era c'era un cabuto musci grosso così cacchio non si vedono le mani grosso così che mangiava che succhiava l'anguria e io che schifo stavo per vomitare figa un scarabèo cervo si si quello con le corna figa che schifo allora pensa che loro li vengono a me fa vomitare figa mi fa guarda che bello io che vomitavo per terra cabuto musci cabuto musci si e poi fai conto tipo c'era una un tombo enorme lo vedevo fermo nell'aria e dicevo cazzo ma guarda quella ci mangeremo gli guarda quella la libellula non mi ricordo guarda quella libellula che rimane lì ferma e invece non era ferma era una ragnatela enorme c'era il ragno che era dieci volte più grande di quel il problema del giappone è che gli insetti sono abnormi io poi odio gli insetti infatti ogni volta che vado a casa di macco gli dico a suo papà prima pulisci tutto intorno ragni e robe varie poi vengo perché non ce ne parla allora l'h tombo l'ho sempre chiamata tombo o no ma lo cerco aspetta l'ho sempre detto tombo andiamo tombo perché? l'ho sempre detto ah no mi esce ah si no esce lo stesso no dragonfly tombo è giusto è giusto tombo anche tombo va bene io ho sempre detto tombo vabbè si è giusta anche la tua però è sempre detto così volevo capire allora poi abbiamo odo questi kanji comunque non ne conosco neanche uno forse a maru conosco per rimanere gli altri no bene ottimo di ray che significa che sto studiando finalmente nove odo questi qua non ne conosco neanche uno quindi dopo sarà un delirio fare gli esercizi ci è la canzoncina che mi piace non posso sbagliare si si no 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 è giusto nel senso si pronuncia anche così non ho detto che non si pronuncia così odo questo dovrebbe essere odo otei odo odo è oh mio dio aspetta lo do normale questo qua adesso lo controllo sakura sakura estendere misurare limite figa distanza ha otto significati quale volete approssimativamente stato della condizione distanza ha mille significati quale metto tutti scrivo un libro limite che titolo ha la canzone sakura sakura eh non me lo ricordo la so anche la melodia ma non mi viene in mente il titolo ce la dovrei anche avere se la trovo te la passo dovrei averlo su un cd pure io la so eh ma non mi viene in mente il titolo about around approssimativamente la statua la condizione la sakura in campagna dove andrai ci sono la sakura in campagna dove andrai penso di sì probabilmente ci sono no ci sono più risaie risaie proprio a manetta in più il papà di maco praticamente ha tutta la montagna piena di risaie sono le sue quindi mi chiameranno the king of risaie allora ti divertirai mi divertirò una cifra ad alzarmi alle 4 del mattino ad andare a prendere il riso allora non so mi dite Odo cosa devo scrivere non so cosa scrivere significa un sacco di roba allora limite misura distanza eccetera eccetera Nado fanno i mochi ovunque i mochi li fanno a capodanno a prendere le punture di zanzare esatto no no quello no perché io vado in giro con Mako pungono solo lei a me no una moglie giapponese è utile perché tu vai in giro con lei e tutte le zanzare mordono lei a te non ti fanno niente Teido Teido Cono Teido non è stenzione Cono Teido Cono Teido è così poco io Teido l'ho sempre usato per dire così poco no o è un altro Teido qua mi sto confondendo inizio a dare i numeri niente questa lezione sarà lunghissima preparate non ho ancora fatto gli esercizi Teido allora about esatto io lo uso così approssimativamente è tipo Cono Teido è così poco si tratta solo di questa cosa approssimativamente dividila in due in che senso dividila in due così poco io uso solo così tipo solo così non così io lo uso così poi bo la lezione no 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 mai mai dividere almeno quella lì dell'altra volta che erano otto pagine ho dovuto per forza tanto ho tempo posso fare la lezione anche per sei ore ma a parte che adesso devo scrivere solo tre cangi e poi inizio fare gli esercizi il problema sarà leggerli che è un bordello Catei un altro Catei abbiamo ottimo Catei un altro Catei adesso mi fa diventare pazzo che non è questo non è questo è questo forse sì un'altra pronuncia identica altro significato processare dove deve essere processare lo cerco perché non lo conosco Catei Catei non so se sentite è partito con le foglie non mi esce neanche corso curriculum perché mi esce curriculum approssimativamente no qua scusa approssimativamente anche la S questo qua processare no ma non è processare me lo dà come un altro significato mi dice corso o curriculum e invece qua mi dice processare sì curriculum e vediamo se ha un altro signorino approssimativamente anche quello corso grazie voi sì che mi volete bene io l'italiano me lo sono proprio dimenticato pronto sì ma capisci due kanji ho scritto una frase no sì no sì mosh mosh oh che kanji dici noi ce la bevamo sì ma capisci due kanji ho scritto una frase in che senso capisci due kanji non l'ho capito non l'ho capito cosa intendi approssimativamente sì ma capisci due kanji ho scritto una frase non l'ho capito cosa intendi pronto scrivi semplice per me perché sennò io non capiscio come numero di caratteri come numero di caratteri ho espresso un concetto in due kanji si esprime molto ah sì quello sì sì ma hanno più di un significato è quello il problema e poi è quello che vi dico sempre in base alla frase cambia significato cioè dovete usare un significato o l'altro non è colpa mia è così nitte 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 non è nitte non è diario nitte nitte non è diario scusa perché al contesto ma nitte non era diario esatto al contesto in base al contesto cambia nitte io mi ricordo che era diario perché mi viene fuori agenda programma agenda io mi ricordo che era diario sono fuori di testa io nitte ho sempre detto diario programma eh lo so però io mi ricordavo e diario come si dice cioè il diario della scuola mi ricordavo che era nitte boh perché per noi il diario è agenda anche io mi ricordo diario diario nitte è diario anche no boh e cos'è che hai detto tu programma mettiamo anche quello programma giornaliero sarebbe è nicchi ecco è nicchi ok bravo nicchi è diario infatti vediamo che se è uguale vabbè nie per forza è quello lì però sì no è diverso ok so stronzo io mi ricordava diario allora amaru è avanzare questo lo so sì 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 amaru my bad mi sono confuso amaru è lasciare ama di agenda e io sì g g eh no ma anche questo qua nitte è anche agenda se lo cerchi come agenda ti esci nitte perché l'ho trovato per cui te l'ho detto amari allora ama o io allora amaru è tipo avanzare non avanzare di camminare ma avanzare di lasciare qualcosa nel piatto tipo avanzare e amari e avanzo amari cioè tipo maco ha fatto un cappello e gli ha avanzato il tessuto amari e avanzo amari esatto amari avanzi o avanzo amaru scusate bello metà in catacana metà in iragana metà in in romaggi allora poi abbiamo iobun questo eccesso iobun questo non lo sapevo iobun eccesso iobun eccesso che è il contrario poi abbiamo soci questo qua è quello di saiban no? no? sì? no? aspetta questo me lo confondo ciao cos'è sta roba 11 soci questo non è quello di saiban scusa ah no figa non è quello di saiban mi sembra lo stesso ottimo direi questi qua cioè se già quello di saiban me lo confondo immagina questo soci soci ah però soci so cosa significa soci è tipo attrezzatura è attrezzatura dovrebbe essere so soci soci attrezzatura sì sì no mi sembrava uguale attraverso mi ricordava quello non so perché ma me lo ricordavo fukusu è vestito ah questo è quello di vestito ok adesso ci sono questo qua è quello di vestito io di solito fuku dico solo fuku vestito così questo no no questo però fukuso è vestiario tipo fukuso ok sì è quello fukuso perché è incasinato no me lo ricordavo ma non mi ricordavo dove l'avevo visto e l'ho collegato a saiban perché l'avevo appena scritto invece era quello lì di vestire poi c'era scritto sotto e naturalmente io non l'avevo letto che spettacolo il kanji sembra un telaio di una moto schiantata contro e poi lo hai usato a lavoro esatto per quello me lo ricordavo fukuso 12 kairu kairu è cambiare però non è questo non è questo è questo kairu kanki kairu allora questo è k e kan quel kairu però è cambiare ma quale tipo di cambio è no è quello per fare la seta google a telaio manuale tessuti ah quello però è google si si no sono incasinatisti i kanji kairu il problema è ricordarseli soprattutto questo qua è kairu cambiare però deve avere un altro significato cambiare è usato con cose tipo c'è quello dei soldi quello dei vestiti cambiare allora oana no mizuo kai kai ma shou e non è questo perché è un altro allora sei stronzo allora invece questo qua si usa per dire ginkgo ni ikeba sono gojuzoru attaccati a sto kanji attaccati a sto kanji che kanji dici noi ce la bevamo già non voglio più amici qua lo usa per cambiare i soldi a exchange tipo ma è ricks hai marche di copri water giapponesi da consigliare ma è hai marche di copri water no c'è solo todo per me in giappone gli altri non esistono todo o doto todo era ginkgo ni ikeba sono gojuzoru cogiteo genkin cioè per cambiare quei 50 dollari in moneta cambiare inteso moneta mettiamo cambiare sordi cambiare denaro così non vi confondete toto eccolo lì che poi all'epoca quando c'erano i bagni di toto nel 93 io volevo portarli in Italia per 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 brevettare no mi ricordavo todo non toro e ne devo prendere uno per metterlo adesso toto mi sembra che c'è anche in Italia li vendono per gli anziani c'è esatto c'è anche in Italia esatto che poi loro lo usavano semplicemente per il fatto per occupare meno spazio praticamente tu hai la toilette e il bidet insieme e pensa che Marco ce l'ha in una stanzetta che sarà due metri quadrati sì sì adesso c'è in due metri quadrati aveva quello con il praticamente la toilette il bidet e sopra dove c'è lo sciacquone c'è il rubinetto c'è praticamente il lavandino eccesso tutti insieme però va bene una stanza che è due metri quadrati sì sì c'è il lavandino allora e io all'epoca c'era quello lì che volevo portare ma il brevetto costava tanto e poi avete presente la moto quella di Dragon Ball quella chiusa tonda chiusa che sotto ha un quadrato con due ruote che è quello che usavano nel 90 per consegnare le pizze quando tu curvavi la moto si piegava così anche quella lì la volevo portare in Italia e però avevo troppi soldi per il brevetto e non l'ho mai portato è rimasto il mio sogno più che altro ero povero poi gli altri hanno fatto tutte le mie grandi idee e io l'ho presa in cu beh nelle case in campagna si faceva turca e doccia insieme beh il tipo a casa di Mako c'è ancora la turca tipo cioè in Giappone in certi posti c'è ancora Kairu qua è che a casa di Mako cioè non a casa sua intendo nella zona tipo andavi nelle nelle cose dove davano i DVD e robe varie e ti dicevano ma cosa me ne faccio io del DVD se se tanto la videocassetta funziona ancora bene siete rimasti leggermente indietro poi adesso siamo al Blu-ray loro saranno ancora al a come si chiamano nelle cassette Kairu Kanki no aspetta no Fuku Su questo è un altro ok no devo fare Sochi vanno avanti ancora di fax no Kairu sto facendo Kanki Kanki cos'è ventilato no Kanki Suro Kanki Suro non è aspetta Kanki Suro io mi ricordavo che era tipo inseguire uno cioè tipo quando ma forse un altro Kanki Kanki Suro qua mi mette ventilato Kokan vabbè con Kani cambiare Kokan questo qua è quello di cambiare lo si sa scambio cambiare scambio o cambio dipende come piace di più Kanki no Kanki costerà un 2000 Kanki ma cosa vuoi che sia un 2000 per l'uomo che dice chi al posto di C può fare ventilazione Kanki e allora lo cerco uno secondo io mi ricordo Kanki Suro è tipo quando quando devi proteggere qualcuno lo so perché no Kanki Suro è tipo quando proteggi qualcuno al come cazzo si chiama i poliziotti devono proteggere il testimone si dice Kanki Suro lo so perché lo guardo tutti i polizioschi adesso li cerco tutti i Kanki ce ne sono mille di Kanki però sono povero no lo troverò Kanki no forse Kanki Suro Kanki sto confondendo Kanki Kanki no quello che è Kanki Scusate no perché non mi funziona il dito vabbè comunque Kanki mi dice ventilazione quello che dicevo io è Kanki ventilazione c'è una N ventilazione mai usata in Italia ok ho chiuso no ho chiuso la pagina ma comprati un nuovo cellulare ma no cosa me ne faccio adesso vado a vivere in Giappone cosa me ne faccio costa quanto un pc da gaming esatto arriva Tora tonarino tototototora il gabinetto giapponese con il lavandino sopra costa circa 2000 euro totototora comunque sabato vado a vedere anche condizionamento d'aria significa intubazione vabbè usa i vecchi cellulare di Mako eh ma c'è la password Odo Teido Teido io tipo a casa l'ho tolto il bidet tanto Mako ci si lavava i piedi Mako era convinta che il bidet serviva per lavarsi i piedi l'ho tolto e ho messo la vasca idromassaggio doccia eccetera eccetera e in più per dirvi Mako per lei Madonna era una non è una cantante ma sì è una cantante ma praticamente ogni anno in America facevano Miss Madonna chi veniva eletta come Madonna faceva la cantante quell'anno che si chiamava Madonna eccesso e poi tipo Nicola e quando gli ho detto ma sai chi è Nicola Skegi vabbè che era l'epoca che c'erano i film di Nicola Skegi e lì diceva certo che lo so è quell'ispettore che fa il comico perché Keiji è ispettore in giapponese e quindi per lei Nicola Skegi era un comico giapponese che faceva l'ispettore Sochi Zenigata X gli amici esatto Zenigata Foucuso allora poi abbiamo Cann poi mi ricordo ancora c'è stata una scena bellissima lei Marco poi vabbè lei c'è l'ingenue è buona quindi non capisce non capisce gli scherzi eravamo in Monte Napoleone in mezzo alla strada e c'era praticamente un mio amico che faceva il butta fuori da Prada e lei fa ah quel ragazzo lì è sempre gentile con me quando ti aspetto fuori dal negozio mi dici come si chiama e io cretino e lei saltava e sbracciava e urlava in mezzo alla strada ciao cretino e lui arriva e fa ma cosa ti ho fatto e io mi chiedevo come un pazzo malefico allora Tora tutto bene ora che bello Tora è arrivato non so se si vede però aspetta non si vede non si spezza la telecamera eccolo Tora Nanimitonne Nanimitonne ti guarda come per dire Nanimitonne che ti stai a guardare scusate io parlo col gatto in giapponese io sono così tanto non mi capisce neanche in italiano allora adesso prima che rimetto a posto la telecamera passa un'ora guarda fuori immagino guarda fuori si sta guardando fuori sta guardando nel vuoto più che fuori direi allora 6, 7, 8 comunque tutti questi kanji qua sono nuovi per me 8 ah no questo l'ho fatto 9 questi kanji qua non me li cioè nuovi no ma non me li fanno parte di quei kanji che non mi ricordo quindi sarà molto bello fare le lezioni dopo Odo Teido Teido me lo ricordo Odo o Tei ok scriviamo Odo Odo io vi saluto che ho una col rimango connesso ma muto vai trai grazie Odo limita misura distanza questo qua ah eh sì Odo è usato come Odo normale Teido Kono Teido solo così tipo quando andate a letto con una ragazza e lei vi dice Kono Teido che significa solo questo vedi chi vi insegna queste cose fantastiche che vi diranno in Giappone voi ci rimarrete male Teido Teido solo ciò Odo Katei è un altro dei fantastici Katei siamo a tre tre tipi di Katei che conosco curriculum o corso Katei 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 programma agenda programma schedulamento programmazione programma ok poi Amaru questo lo so l'abbiamo fatto ieri mi sembra dieci Amaru Amaru non è così è cambiato le parole io Rokobi tocare no tokanashimil no kurikaeshi canzone degli anni ottanta che conosco sono io naturalmente allora Amaru e io Amaru avanzare Amaru Amaru o avanzo Amari e avanzo Amari mi sono avanzati questi diecimila euro li vuoi no peccato Amari poi abbiamo Yobun Yobun non lo so Yobun cioè quando lo vedrò dirò ah Yobun lo so leggere ma la prima parte non mi verrà mai in mente che io quindi lo ripeto mille volte che magari mi rimane in mente ma così non sarà eccesso poi So 11 C So che è quello di Fukuso come Fukuso me lo ricordo so da so ha su significato adornare adornare so allora iniziamo a disegnare 1 2 3 4 C lo si sa so lo scrivo adornare adornare tanto non lo riaprirò mai più questo quaderno però lo faccio lo stesso ma quanti anime devi vedere ancora una marea sono sono stra indietro devo ancora vedere Black Clover vedete sto aspettando che finisce ma non finisce e sono fermo a One Piece alla città di Uano Ghintama l'ho finito Ghintama l'ho visto tutto l'anno scorso Sochi Adreverzo Adreverzo Attraverzo perché Sochi Attraverzo che cazzo ha scritto? non era attraverso non è attrezzatura perché ho scritto attraverso? non so perché ho scritto Strumento tipo Strumento non lo so perché ho scritto quella roba Strumento comunque Fucuso furia di parlare scrivo stronzato Fucuso e nessuno mi corregge grazie Fucuso Allora vestire o vestito Vestire sarà Vestitora Vuoi venire da Papito? Non vuole venire da Papito Poi 12 questo è quello di Change però un altro tipo di Change 12 Caeru 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 Ojinai Acaeru Norokobito Kaneshin Okurikaeshin Can Can Caeru Caeru Eccolo qua Tonarino Tonarino Totototototototoran Totototototoran Il neco basso è arrivato Na 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 Su tecchina dea i Tonarino Totototototoran E niente Adesso Mi sa che la lezione Per un po' Aspetta Provo a togliergli il libro Da sotto No Ci si sta sedendo sopra Ma chi è che si siede sopra Il libro di papà Mentre sta facendo la lezione Ma che belle mannine Di chi sono queste mannine Di chi sono queste mannine Tonarino Totototototoran Tototototoran Vabbè Vi faccio vedere Torotototototoran Si sta grattando la faccia Sulla telecamera grazie Tor, è molto gentile. Hai letto che in America un negozio ha messo disponibile delle PS5 e il giorno c'era una folla di gente all'ingresso? Eh beh, fatto bene, salvo, bravo, esatto, che se Tor mi spegne il pc, adesso si sta grattando la faccia sul microfono, se sentite i rumori è lui, questo sono io con il mio fantastico pizzetto mezzo bianco, mezzo nero, alla messicana, niente, mi fai studiare un po', forse riesco a scrivere qua, no, forse no, aspetta che provo a scrivere, se riuscissi a sfilare almeno il libro da sotto le sue zampe, si sgratta la faccia sul microfono, smettila. Tonarino, to, 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 tora, niente, aspetta che lo tiro su, to, 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 di ciao, tora, niente, non mi fa scrivere, ci provo, tora, saluta, no, si gratta la faccia sulla telecamera, non sono io che muovo la telecamera, è tora che si gratta la faccia, ma con i bei piedini, ma di chi sono questi piedini, di chi sono, mo mi picchia, e poi si è messo in mezzo tra la telecamera e il microfono e io non posso fare niente, allora, Kairu, Kairu, cambiare soldi, cambiare, ora ti morde, è sicuro, sì, se lo tocco mi inizia a mordere, Kanki e ventilazione, però mi sembra strano, Kanki e ventilazione, ventilazione, sì, ventilare significa, boh, Kanki, sembra strano, cioè nel senso il Kanki con quello che significa non mi corrispondono, quindi questo sarebbe un altro di quei Kanki che non riesco a capire mai perché non corrispondono, stai scrivendo, ventilare, sì, sto scrivendo, si vede, sto scrivendo, sto scrivendo, questo è il culo di Tora, io sto scrivendo, Kanki e poi Kokan, Kokan è scambiare, o scambio, te lo puco, Kinkano, tonarino, to-to-to-to-to-to-to-ram, to-to-to-to-to-to-ram, ok, piano, tolgo piano piano Tora, non ti arrabbiare, ce l'ho fatta, ah, su quaderno, pensavo si fosse bloccata l immagine, No, c'è Tora sopra il coso solo che se tocco la telecamera mi picchia non mi picchiare Tora, figa la mia telecamera mi picchia perché prendo la telecamera e tu l'ho pagata io se tu stai lì io sto qui, facciamo così guardate che cerco le cose per leggere bella la tua cancia comunque la canzone è quella di Totoro che è diventato Tora però te lo lascio a te il foglio posso leggere? non mi picchi? provo a leggere se mi picchia mi incazzo più che altro perché mi buca la mano se mi picchia Teijo Budaion? ok, sposto anche il microfono me l'ha spostato allora Ryoko no nitte dovrebbe essere nitte o kimeo decidiamo il giorno della partenza del viaggio ok, fino a qua ci siamo nitte ok, poi si vede si vede kanojo wa meni namida o ukabeteita dai suoi occhi lei dai suoi occhi sgorgavano cioè sgocciolavano le lacrime ukabeteita poi sore sukoshi e questo è Yobun l'ho letto prima che ho detto che non l'avrei mai letto invece sukoshi Yobun nikate oite quello comprano un po' in eccesso in cui puoi fare qualcosa sì, no, l'importante è che posso fare qualcosa se no non finisco più itamino itamino teido nio te questo non me lo ricordo no, cirio dovrebbe essere cirio ho mo kawaru in base al al tipo di di dolore anche il metodo di cura cambia mamma mia teido è giusto cirio, sì quello dei pomodori kono ega no sekai jude questo qua è yoban 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 sì yoban questo film viene a una buona cioè viene riconosciuto in tutto il mondo yoban vero torah che yoban si vede torah? no, non si vede più torah comunque torah è qui aiuto no, scusa non volevo toccarti scherzavo allora questo non lo so shi king wa questo non lo so cioè non mi viene in mente cosa significa nel senso lo so leggere ma non mi ricordo cosa significa shi king wa juban haru to questo qua è kate stemyo questo non me lo ricordo shi king wa è abbastanza misuriamolo non so cosa significa shi king non me lo ricordo col ti segui sottofondo vai tra massi questo shi king poi lo cerco su pua saigo no questo qua è ite kimade no manakia la zuppa la devi bere fino all'ultima goccia la madonna questo è jiken no si no è jiken 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 soci no mondai de data gatorinai per un problema del dell'attrezzatura dell'esperimento non riesco a prendere i dati soci si era comunque poi muin o kokan suru hizioga rusoda sembra che ci sia bisogno di cambiare il pezzo e dovrebbe essere kokan e questo qua poi jiken no ste questo non me lo ricordo questo è tai e questo non me lo ricordo no se sei non me lo ricordo questo è vabbè ikaku però questo qua non me lo ricordo poi non me lo devo segnare comunque ikaku è questo qua seish no non lo sa più ah e kitai mchia l'ho fatto ieri kitai è liquido seishutsu è natura vabbè sto stronzo questo qua l'avevo fatto non ieri due giorni fa l'ho fatto quindi me lo dovevo ricordare invece no allora questo qua è praticamente nell'esperimento bisogna confrontare la natura dei liquidi questo me lo devo segnare poi non so se si vede tiro su ue silvi c'ho il gatto di fianco che mi vuole picchiare quindi sono tutto storto bionniku tociu de wasuremononi e kizuita mentre tora vuoi leggere tu leggi tu al posto mio ok legge tora ha detto mentre mentre stavo andando in ospedale mi sono accorto che ho perso una roba le mutande conosciashin itogani chizunde irumitai questo cos'è scusa le persone cosa significa in questa foto le persone ah sembra che volano in cielo ok conosciashin itogah sorani dovrebbe essere uite irumitai in questa foto le persone sembra che volano in cielo non capivo il senso scusate la stano pati wa donna fucuso dei kebaikana alla festa di domani con quale tipo di vestito devo andare vai in mutande kono attacche dovrebbe essere kat arrasment si kono dovrebbe essere attacche no no menseki wa nan 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 kata nan 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 kata no menseki wa nan kata metro de kata dice questo la misura l'aria di questo di questa campagna e quan non capisco questo qua nan nan kata dovrebbe essere però non capisco il senso quanti quanti metri è e io figa e io questo me lo deve insegnare quanti metri sono praticamente zuibun yukiga è caduta tanta neve donogurai tsumotta amatta dovrebbe essere tsumotta è caduta tanta neve quanta se n'è formata tanta e si mi guarda se traduco bene più che altro è qui non mi mordere taran guarda che bei baffi ma di chi sono questi baffi lunghi lunghi lunghissimi di chi sono di chi sono vedete tutto bianco ma è il petto di Thor ah no non picchiare cosa ti ho fatto allora perché mi picchi perché picchi babbo babbone allora andiamo avanti comunque un sacco di parole non mi ricordavo allora Ryoko è viaggio uno Ryoko Ryoko no nitte o chimeo decidiamo il giorno del volo chimeo poi questo era easy due canoggio lei canoggio canoggio wa me ni namida è lacrima dagli occhi le lacrime o ukabe ita gli cadevano le lacrime dagli occhi ukabe te ita gli sgorgavano le lacrime dagli occhi tre sore quello sukoshi un pochito sukoshi yobun prendine un po' di più sukoshi yobun nikate oite di quello comprane un pochito di più oite poi quattro aspetta che vado un po' su sto scrivendo tutto storto perché c'ho il gatto che non mi a parte che non vedo chi sta scrivendo cos'è Ryokan cos'è Ryokan cos'è Ryokan Joe Ryokan il coso giapponese Ryokan dovrebbe essere l'albergo giapponese vero? l'albergo stile giapponese dove andiamo i etora tu gratti il tatami albergo tradizionale esatto devi comprare un'altra tastiera e la metti una a sinistra eh no eh sì non è il problema della tastiera che etora è davanti al monitor io non vedo cosa sto scrivendo si gratta no ricordatemi che devo chiamare mia cugina se riesco a far funzionare il telefono allora poi etami no teido in base al tipo di dolore etami no teido il monitor è caldo il monitor sì è caldo ecco perché qua eh perché uno è caldo perché quello del sai quelli vecchi ahia torra figa che male è quello sai quelli che passi sul dito e si colorano quello lì è caldo infatti si è messo davanti eh con o teido che è quello della chat infatti non vedo chi sta scrivendo eh con etami no teido per questo tipo di dolore è per quello che ci vuole stare ni eh io te in base al tipo di dolore in base al tipo di dolore cirio che è quello dei pomodori cirio eh cura cirio ehm cirio 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 ho il metodo di cura moca kawaru cambia il metodo di cura kawaru in base a e questo si poi con o ega questo film cinque è lui che sposta non sono io con o ega tanto sto scrivendo l'exel con o ega se kaiju in tutto il mondo all around the world se kaiju se kaiju de yoban è reputato in tutto il mondo yoban yoban ni natero ne poi li faccio tutti gli esercizi e prescrivo perché tanto non posso scrivere shikin lo devo cercare shikin non so cosa significa shikin wa jubun jubun è abbastanza la tua coscienza dai la play 6 a daniele jubun è ma mi sa che adesso se parto dovrò dare via tutte le mie cose quindi katei quindi preparatevi katei ste mi o ma si sa che un sacco di roba cale allora shikin shikin non me lo soldi sicuramente ma il resto shikin cosa significa ho cambiato anche pagina top non la porti appresso eh come faccio capitali shikin capitali con lo capitale jubun to katei ste mi o misuriamo per bene il misuriamo per bene se abbastanza il capitale cioè valutiamo se bene katei dovrebbe essere cos'è era ah ipotizzare ipotizziamo se va bene il capitale è figa shikin è capitale i vari robotti no no non posso portarlo il pc come faccio l'unica cosa che poi stacco la stacco esatto è quello il mio problema i robottini cioè io mi taglio la testa cioè per me è un valore affettivo anche non lo so infatti cioè o tengo la casa con dentro la roba io non ci abito e continuo a pagare per avere una casa vuota con dentro i miei robottini o devo comunque affittare una stanza no tutto devo lasciare qua tutto è quello il problema l'unica cosa che mi porterò via sarà la esatto stacco la scheda esatto l'unica cosa stacco la scheda grafica e me la porto l'unica cosa che posso usare allora due supu supu è la zuppa supu wa saigo no saigo saigo no itechi fino all'ultima goccia made fino all'ultima goccia no manachia devo bere la zuppa fino alla fine no manachia al massimo stacca la corrente esatto sì quello certo che stacco tutto il problema è che cioè continuerò a pagare spese condominiali e robe varie per tenere una casa vuota è quello che mi gira il culo per poi andare in Giappone a pagare l'affitto ma non puoi spedire in un container le cose che ti vuoi portare eh ho capito ma cioè spedisco nel container ma devo impacchettare tutto solo il pensiero mi viene da piangere allora e poi comunque molte cose hanno la presa italiana non hanno la presa giapponese quindi non funzionerebbe e poi vendi casa eh esatto che è quello che cioè in teoria non vorrai venderla perché metti che poi voglio tornare qui cioè se tipo non lo so facciamo le corner tipo mia mamma sta male robe varie devo tornare qui non ho una casa è un problema adesso vediamo cioè adesso prima vediamo se torna Mako magari non torna e quindi c'è un punto è a capo G Ken Sochi lo strumento dell'esperimento G Ken Sochi ehm no Mondai per un problema in campagna in Giappone e addio Italia esatto e vado a finire mi sa che andrà a finire così Detta Torra è ancora lì è un bel dilemma Torra è ancora qua certo è qua con i suoi bei piedoni Torra ve lo metto così Torra vuoi i coccolini da papito? vuoi un po' di coccolito? morbidina e mi guarda male come per dire è un bel dilemma sì mi piacerebbe tutte e due cioè nel senso mi piacerebbe cioè per me andare in Giappone non è un problema per fare anche contenta Mako però il mio problema è lasciare tutta la roba qua cioè a me quello che gira il cazzo è dover pagare un affitto che ho una casa hai capito? cioè devo andare a pagare un affitto in Giappone quando qua è casa mia cioè ho appena finito di pagare poi avessi finito di pagare il mutuo dici da vent'anni ho finito di pagare a dicembre e adesso già vado a pagare l'affitto d'altra parte so stronzo però vabbè this is love vediamo Giken o magari Mako trova uno ricco e famoso lo sposa io la piglio in cura ste ekitai 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 me lo segno perché sono stronzo l'avevo studiato la lezione prima non me lo ricordo neanche se cioè quando mi è venuto in mente ekitai è venuto anche seishizu che è natura senza moglie e senza casa e senza gatto ikaku sta esatto poi alla fine esatto metti che succede qualcosa in Giappone io poi torno non ho neanche casa mia cioè eppure il gatto si prende e il gatto mi prende a schiaffi anche questo non l'avevo letto e le gpu le gpu no le gpu quelle sono mie l'unica cosa che mi rimane mi rimane la gpu bio in uno bio in no poi anche cioè a parte gli scherzi se vado in Giappone poi mi devo ricomprare tutto che significa che mi devo comprare il monitor il computer la play tutto devo ricomprarmi se le affitta rischia che li rubano roba esatto volevo affittarla ma anche per affittarla devo svuotarla cioè per affittarla devo svuotarla trovare un posto dove mettere tutta la mia roba e però devo pagare l'affitto dell'altro posto cioè boh non lo so ci sono i magazzini ci sto pensando esatto ci sono i magazzini ho capito vabbè ma la PS5 la vendi a 800 e ricompri a 400 no sì ma e metti che torno qua in Italia dopo non ho niente devo ricomprarmi tutto lo stesso è un casino cioè non lo so cioè adesso come adesso non so cosa devo fare ditemelo voi cosa devo fare ditemelo voi datemi una risposta perché io non so rispondere c'è nel senso ripeto andare in Giappone per me non è un problema fai come me non torni in Italia mai più sì ho capito però allora partiamo da sono 4 anni sono 4 anni e 7 mesi adesso sì allora vorrei fare così ma tipo mia mamma è vecchia hai capito quindi cioè se gli succede qualcosa non è che anche la stessa cosa dice Mako che suo papà è vecchio gli vuole stare vicino quindi se succede qualcosa io comunque o lei o io cioè dobbiamo tornare o in Giappone o in Italia cioè se torno in Italia dove vado a vivere e stai a casa sua a casa sua chi? a casa sua di di Mako o a casa sua di mia mamma? tua mamma no a casa mia di mia mamma c'ho ancora letto e tutto però il problema principale è che a casa di mia mamma non c'è internet io mi impicco se non c'è internet cioè mi suicido subito allora non ho letto niente scusate mentre andavo all'ospedale mi sono accorto che che ho dimenticato una cosa in questa foto le persone sembra che vogliono in aria ah stanno partiti nella festa di domani nella festa di domani sono perso ma dove sto scrivendo scusate ah no è giusto nella festa di domani cosa hai detto alla peggio divai una chiavetta chiavetta da che? ma sei pazzo? e cosa faresti fare un addonamento per star da tua madre mentre sta male temporaneamente? certo metto il giga mentre fucuso no partiamo la priorità della vita partiamo dal 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 presupposto che vorrei che questa cosa non accada però la vita è una merda quindi cioè se vivessimo nel mondo dove tutto è bello e tutto è felice andrei in Giappone tranquillamente e tutti vivessero felici e contenti ma so già che non ando a finire allora Cono Torra Torra va via Torra fai vedere il culo a tutti questo è il culo di Torra grazie posso studiate scusate sono tornato allora fatta che mi addrizzo che sono tutto storto ok ce l'abbiamo fatta l'ultimo esercizio che sto facendo Cono attacche questa campagna Cono attacche questa campagna che dove andrò a vivere io no Menseki era Menseki wa Nan Eio Nan Eio Non avevi una sorella No ne ho due sì ho capito ma non è che posso cioè non è che posso dire vabbè mia mamma sta male me ne sto in Giappone non me ne frega niente torno perché se c'è mia sorella Nan Eio Metoru Desuka Eio Eio sai che non lo so cioè a parte che l'ho pronunciato Ancata quindi ho sbagliato comunque Eio Eio che poi è quello di Eikin Metri significa sai che non lo sapevo io ho sempre detto Metoru Nan Metoru ah no però è metro c'è scritto 9 e io metro ah metro quadrato significa metro quadrato ok questo me lo scrivo aspettate che continuo a chiudere il file non so per quale motivo metro quadrato allora l unico modo è che paghi le cose di questa casa no questo non lo sapevo comunque anche al Silvestro tu di dove sei originario 5 come città a me se rompono le scatole di tornare in Italia cambio numero cambio numero ma tu sei giovane capito anche io quando ero giovane ero in Giappone ed ero contento e la vita era bellissima però mia mamma era giovane capito adesso siamo cioè mia mamma ha i problemi eccetera eccetera cioè anche a dire a mia mamma che vado a vivere in Giappone per me gli viene un infarto si si guarda la vita bellissima sono felicissimo Shara Yuki Yuki Ga allora è felicissimo però ha solo un problema Sebastiano Novanta Lazio ha un problema che praticamente a Londra lui il francese Seba praticamente a Londra vendono solo le maglie senza le maglie quindi forza Roma o forza Lazio Donogurai e Tsumotta Allora Zibun Yuki Ga è caduta tanta neve Donogurai Tsumotta Quanta neve più o meno si è accumulata? Che maglie? ti ha fatto allora niente qua mettiamo le risposte scrivo tutto allora nitte questo è nitte tanto è giusto le parole nuove sono nitte che è agenda abbiamo detto ukabete mi cadono le lacrime poi abbiamo yobun e cedi teido questo in base al tipo di questo è il tipo di dolore tipo comunque teido da Napoleone e Pierre yoban e reputazione questo qua questi due qua comunque questo qua proprio non lo sapevo che è capitale Shikin magari l'ho già visto ma non mi veniva in mente Shikin questo qua è Catei misurare ipotizzare se giusto o no capitale itte chi è una lacrima dal viso io ho capito tante cose già che erano francesi una goccia si chiama Napoleon e si sparava cannonato ah grande grazie vado a vedere fatta cosa la clip no ma non quella di Napoleon dovevi fargli vedere la clip quella che gli è passata la palla sotto le gambe quella lì è stata bellissima che il portiere con le mani aperte gli è passata la palla sotto i piedi quella è da tenere allora Buin Kokansuru per cambiare la parte sembra che sia necessario cambiare il pezzo ok top quella guardo anch'io Ikaku qua era Jikenoste Ekitaino Seishuku Seishitsu scusate Seishitsu questa qua proprio non me lo ricordo Seishitsu Ikaku sta allora nell'esperimento bisogna confrontare la natura dei liquidi questo qua l'avevo fatto due lezioni fa infatti non me lo ricordo Bionikuto Tochude Wasuremono Nikizuita mentre andavo in ospedale mi sono accorto che avevo dimenticato una roba Konoshashin Itoga Sorani Uiteirumitai in questa foto sembra che le persone volino in cielo Ashtanopatini Donna Fukusode Ikeba Ikana nella festa di domani vedi nella festa di domani In perché sei in posizione fermo lì Donna Fukusode con quale tipo di vestito con quale tipo di vestito Ikebai sarebbe meglio andare Kono Atake no Menseki Wa Nan Eiyo Eiyo è quadrato adesso lo so questo me l'ho fatto ma non mi è mai rimasto in testa Metro Deska questo campo l'area di questo campo quanti metri quadrati si estingueranno da Londra nei prossimi Zubu Fuyuga Futane Donogurai Tsumotta è caduta tanta neve è vero quanta e quanta se ne è accumulata più o meno spero vivamente che gli italiani si estingueranno eh sì ti piacerebbe allora vabbè che quelli di Londra dicono quelli di Londra dicono la stessa cosa no Silvio io e te non dobbiamo parlare non dobbiamo parlare l'italiano ricordi quando inserisci un'altra lingua l'italiano lo perdi allora ho scritto tutto no non ho scritto niente perfetto quindi scriviamo tutta sta pappardella di roba siamo a due ore e mezza e non ho ancora fatto gli esercizi top allora ce la farò oggi a finire la lezione che poi non è neanche lunga è che so stronzo io ok uno rioco rioco no nitte rioco e viaggio vi metto dove sono rioco e viaggio sono quasi dieci anni che ho imparato l'italiano che disimparato rioco in che senso che hai imparato l'italiano seba non sei italiano rioco no nitte io non l'ho mai imparato l'italiano preferivo la matematica nitte sono siciliano chimeo sì grazie chimeo lui è siciliano sì lo so ma è italiano comunque sia chimeo ah tu dici che parlavi l'italiano e da dieci anni ok dal 2009 parlo italiano che ti sei trasferito canogio altra lingua parla canogio ah se ma tu ti sei trasferito per lavoro così o per la tipa canogio va meni namida namida è lacrima una lacrima sul viso io ho capito molte cose mamma mia che canzone vi ho tirato fuori studio ok io ho sentito due siciliani parlare dialetto a lavoro non capivo una parola ucabe 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 come si dice goccia goccia è itte namida è lacrima e invece goccia è itte itte chi scusa ho preso la valigia e ho mandato tutti a quel paese è fatto bene è fatto bene ucabe ucabe itta allora lei allora lei gli scorrevano le lacrime dagli occhi tre gli cadevano le lacrime dagli occhi sore quello sukoshi la mamma e la figlia che fanno la spesa sukoshi iobum quello comprano in eccesso un pochino un pochino nikate o itte otosu otosu e cadere questo qua ucabe itte fare cioè sgorgare gli sgorgano le lacrime dalla faccia significa però fa schifo in italiano gli cadono le lacrime sarebbe itte caccia otosu otosu e far cadere no itte no techi techi si dice non techi probabilmente io tornerò in Italia solo quando sarò vecchio se ci sarà ancora Italia allora iobu ni in vacanza cate o itte e qua ti metterai la maglia con le maniche lunghe il maglione a collo alto e le maniche lunghe cate o itte perché in Italia fa più freddo che a Londra allora di questo di quello comprano un po' in eccesso itami no teido ni yo te in base al tipo di dolore itami no teido ni yo te itami 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 e dolore no teido in base al tipo di dolore no teido ni yo te ni yo te ni yo te scherzo scherzo secai giù daniele 95l aereolo piloto io tranquillo a posto secai giù de yoban reputazione all around the world yoban yoban ni na te rune questo film è reputato è valutato è reputato è riconosciuto in tutto il mondo vero shikin è capitale non lo sapevo adesso lo so è shikin 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 mi viene fuori come capitale questa qua non lo conoscevo proprio comunque shikin wa jubun haru se abbiamo abbastanza dinaro abbastanza fondi fondi più che capitale jubun haru to vediamo se abbiamo abbastanza misuriamo se abbiamo cioè ipotizziamo se abbiamo abbastanza soldi come sempre prometto che a destinazione ci arriviamo vivi o morti soprattutto la seconda stemio proviamo a ipotizzare se ci bastano i soldi o meno direi di no sup 2 sup la zuppa sup wa saigo 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 è fino alla fine saigo saigo no itte ki fino all'ultima goccia itte ki made fino all'ultima goccia non manacchia devo bere la zuppa fino all'ultima goccia bene 600 litri di zuppa prego non manacchia io invece sono si dice necogita non riesco a bere la zuppa calda la faccio raffreddare anche il ramen non riesco a mangiarlo perché è scotta allora e si dice necogita che significa lingua da gatto oh 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 chi di gatto allora giken soci l'istrumento del mi manca il ramen quasi quasi l'ordino beh il ramen lo puoi comprare ovunque poi a Londra penso che sarà pieno di quartieri giapponesi eccetera eccetera ristoranti orientali ti consiglio quello che si chiama caio che è quello piccanto allora giken giken soci no mondai per un problema all'attrezzatura dell'esperimonte mondai mondai oh mio dio mondai de data i dati data ga torrenai non posso prendere i dati per un problema all'attrezzatura dell'esperimonte buin o koukansuru buin parte o pezzo buin buin o koukansuru cambiare il pezzo koukansuru o scambiare il pezzo dipende come mi piace di più o scambiare o cambiare comunque sempre quello suruhitsuyoru sembra che sia necessario dover cambiare il pezzo hitsuyo è necessario hitsuyo gaaru so so sembra che so da allora poi gikkenoste ho fatto un esperimonte io quando torno in Sicilia dopo un giorno mi girano già beh come quando io esco di casa che voglio uscire di casa poi appena esco mi viene voglia di tornare a casa perché la gente mi disgusta allora gikkenoste questo qua è ekitai che è liquido e mo me lo scrivo bello grande no a parte che lo so perché poi c'è il kanji di notte l'ho anche detto l'altra volta che è acqua più notte sono stato stronzo io ma ekitai comunque lo scrivo che non lo so potuto leggere esercizio e poi l'altro invece non lo so proprio leggere no infatti non me lo ricordo di nuovo ekitai no non mi ricordo seishutsu seishitsu seishutsu seishitsu l'ho detto giusto seishitsu seishitsu questo non me lo ricordo mai quando lo vedo cioè non me lo ricordo mai l'ho visto l'altra volta però non mi sovviene neanche seishitsu è che andare a New York Fidale Pia mi ha fatto lo stesso effetto ikaku per una cosa assurda che andare a New York Fidale Pia eh dipende quello è il problema dipende dal posto cioè tipo io quando vado io prima in Giappone ero contentissimo di andare in Giappone ma adesso quando vado in Giappone vedo che sono tutti stranieri mi passa la voglia di andarci in Giappone infatti non ci vado cioè se vado a Tokyo cioè se vado in Giappone non vado né a Tokyo né a Kyoto né a Osaka vado in ogni paese fuori perché vedere solo stranieri mi girano i coglioni cioè se volevo andare vedere solo gli stranieri andavo in Monte Napolio no in Monte Napolio ci sono più stranieri che in Giappone cioè se voglio andare in Giappone voglio vedere i giapponesi cioè non perché sono razzista ma perché non voglio vedere cioè se volevo andare in America andavo in America andavo in Giappone per vedere gli americani almeno trovi gli stranieri immagina vivere a Londra e trovare tutti italiani sì ma è la stessa cosa è pieno di italiani anche in Giappone adesso Bionni prima invece c'ero solo io c'ero io e quello lì come c'ero io i miei due amici e quello lì che è diventato famoso quello napoletano che insegnava l'italiano che non mi ricordo che l'abbiamo non mi è dato l'altro giorno non mi ricordo come si chiama allora Bionniku Tocchude mentre andavo in mezzo alla strada per andare nell'ospedale che però fa schifo quindi mentre andavo all'ospedale Wasuremono Nikizuita mi sono accorto che avevo perso una roba avevo perso le mutande Wasuremono Wasuremono Nikizuita girò la moppanzetta è quello lì esatto lui è diventato famoso io invece sono diventato uno struzzo con Oshashin due questa foto che me lo ricordo ancora che insegnava non la conosco la sera a mezzanotte insegnava il giapponese cioè l'italiano faceva le lezioni di italiano in Giappone a mezzanotte con la pronuncia napoletana e io infatti lo guardavo che mi faceva ridere dicevo guarda questo che spiega l'italiano con l'accento napoletano e invece lui poi è diventato famoso e lui ha riso io l'ho preso in cu ed è sposato pure a Nomadella Itoga Sorani Uite Girolamo Panzetta è un conduttore televisivo e attore italiano che vive e lavora in Giappone in un sondaggio giapponese del 2006 è risultato essere il secondo italiano più famoso nel paese dopo Leonardo da Vinci sì però nel 93 nel 93 faceva le trasmissioni televisive che insegnava italiano però quello non c'è scritto Ashta e poi in Giappone se sei un praticamente un attore o un cantante o il presentatore alla tele sono la stessa cioè nel senso loro non dicono c'è il cantante fa il cantante e basta il cantante fa anche l'attore e l'attore fa anche quello dei programmi televisivi perché dobbiamo renderci famosi come pagliacci pati no vabbè quello era così a parte che c'era solo lui lui ha avuto l'idea buona allora verrò in Giappone mi chiameranno Silvestro Addominalo no comunque lui ha avuto l'idea giù tipo quando poi sono stato ancora in Giappone in Giappone all'inizio tipo la pizza non esisteva c'era c'era la pizza quella americana quella alta non c'era la pizza normale io dicevo sempre cacchio se avessi soldi aprirei una pizzeria perché la pizza normale non c'è e poi l'anno d'opera pieno di pizzerie è sposato con figlia di un produttore televisivo vedi i che ba i tora amore ci abbiamo un problema tecnico tora che c'è vuoi fare vedere il culo a tutti facciamo vedere il culo a tutti e mo non vedo più aspetta devo copiare da qua tora adesso è qua vi faccio vedere il culo è triste cercare di sfuggire l italianita e ritrovarsi nei ghetti di italiani all'estero eh sì ma è sbagliato poi riunirsi poi tra gli italiani all'estero hai capito qua adesso abbiamo un problema tora vorrei scrivere mi fai finire ti lascio il libro lasciami questo però ok nel suo primo programma televisivo su NHK Italia Gokaiua si occupa di insegnare l italiano ai telespettatori vedi vedi il programma viene trasmesso per 15 anni diventando uno tra i programmi più longevi dell'emittente e vedi te l'ho detto tu devi fidarti di me allora parti donna io c'ero te lo posso testimoniare ikebai canà io farò la io sotto ho due napoletani che urlano wewe frate e kumpa con la musica neomelodica napoletana no ma io te lo dico perché l'ho visto ero lì c'ero quindi lo so Konoatake questa campagna cioè nel senso non è che lo odiavo robe varie ha avuto l'idea giusta al momento giusto io invece avevo le idee ma non avevo il denaro per farlo o le conoscenze sicuramente lui ha conosciuto qualcuno gli ha detto ma perché non insegni l'italiano alla televisione e l'ha fatto che poi c'è stato era il periodo che c'è stato il boom degli italiani nel senso non che andavano tanti italiani che ai giapponesi piaceva l'Italia infatti io vendevo vendevo le cose italiane in Giappone e poi le cose giapponesi in Italia perché c'era il boom cioè parlare italiano avere qualcosa di italiano era figo all'epoca capito invece adesso è una cosa normale hanno tutti le cose italiane vendono anche la pasta barilla ma ha detto al supermercato prima non c'era zuibun poi si è saturato di imbecilli esatto poi c'è stata l'invasione zuibun zuibun yukiga puttane e poi adesso ci vado anch'io così la riempiamo proprio per bene proprio full idioti allora tutta ma vai che io sono in campagna quindi se volete andare con l'asino sul monte Fusi me lo fate si leon si ma il problema è che lui non è bello hai capito lui è una persona come italiano è una persona normale solo che lì lo vedono come se fosse James Dean è capito per dire Donogurai nel senso lui è stato bravo Sumota ok zuibun l'ho scritto Konotakewa Mensekiwa Nan Eiyo Metrodesuka questo tipo di questo campo l'aria la superficie di questo campo quanti metri quadrati più o meno è e ha nevicato tanto vero quanta neve più o meno si è accumulata e lo so è quello il problema cioè il problema è che io potevo essere io ma non lo so è quello il discorso cioè nella stessa epoca c'ero anch'io lì quando eravamo in pochi italiani in Giappone però lui è diventato famoso ricco e potente io invece sono diventato solo potente e basta comunque tre ore adesso vediamo se ho fatto giusto e perché tu non ti mettevi a petto di fuori eh no è perché io ero nell'oscurità invece lui viaggiava in televisione quello è il discorso allora vediamo se è giusto o se è sbagliao non trovo l'idea Zai zio allora unità otto di quattro o no sì tociu come potete vedere qua tociu c'è scritto qui c'è scritto qui uite è scritto qui è scritto lì fucuso è scritto qui è scritto lì mensecchi è scritto qui è scritto lì e sumotta è scritto qua è scritto là ok almeno l'esercizio non l'ho sbagliato a parte che non sapevo questo è facile comunque questo kanji qua però non l'ho sbagliato questo qua l'ho fatto due lezioni fa me lo sono dimenticato e questo qua dovrebbe essere fondi più che capitale e niente vi ringrazio a tutti la lezione è durata pure troppo vediamo se c'è qualcuno c'è la grossa e Mike da chi volete andare? da Mike? volete andare in Giappone o volete andare a Fanku? volete andare da Mike? ciao Alex grazie Mike e cos'è che sta cos'è che sta facendo? ok andiamo a salutare Mike dai andiamo a salutare Mike stavolta andiamo sempre dalla drossa facciamo una volta uno anche perché la drossa ha tanta gente e Mike no rimanete attaccati che andiamo da Mike cioè che vi mando da Mike non ho fuori culo